Allora, buon pomeriggio e benvenuti a tutti. Ci sono molte persone nuove rispetto ai soliti, quindi vi dico solo che è un incontro di un'associazione che si chiama Gishell, in particolare il Gishell Veneto. Gishell sta per gruppo di intervento e studio per l'educazione linguistica, educazione linguistica che vuole essere democratica, come dice il nostro manifesto, che sono appunto le dieci tesi per l'educazione linguistica democratica. È stato fondato da Tullio De Mauro e altri linguisti e insegnanti, molti anche di Padova. Facciamo formazione agli insegnanti sia nelle scuole e sia all'università. Da due anni, grazie al Covid, una delle poche cose positive, abbiamo iniziato a tenere i nostri incontri su Zoom quando si tratta di presentare un libro o un progetto interessante proprio per gli insegnanti di italiano in particolare. e allora oggi non presentiamo nello specifico un libro, ma un gruppo di lavoro che è noto appunto con questa sigla VRV che sta per Writing e Reading Workshop ed è costituito da un gruppo sempre più numeroso di insegnanti e formatori, formatrici che lavorano con un nuovo approccio, metodo, poi ci spiegheranno meglio loro, di nato negli Stati Uniti e che ha cominciato a diffondersi in Italia da otto nove anni e soprattutto grazie ai primi lavori di Jenny Poletti Ritz che ha scritto un libro, scrittori si diventa, metodi e percorsi operativi per un laboratorio di scrittura in classe. Adesso sono in corso molte altre pubblicazioni e dopo saranno indicate dalle relatrici o saranno nelle slide e c'è anche un bel sito e un gruppo Facebook che potete trovare facilmente appunto digitando la sigla VRV e ve lo metteremo anche in chat. Allora adesso presento le nostre ospiti e abbiamo deciso di limitare l'incontro solo alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, magari allargando poi forse l'anno prossimo anche alla scuola di secondaria di secondo grado. Allora abbiamo Loretta De Martin, che si è laureata a Padova, ha fatto la SIS Veneto, e quindi è entrata in contatto con molti insegnanti del Gissel e poi è diventata insegnante di scuola media alla Zanella di Padova, in zona Arcella, che è una zona molto calda adesso e anche ad alta densità di alunni stranieri. E dopo ci dirà qualcosa della foto del bambino in Locandina che colpisce già da sé. Dunque, Loretta è formatrice da diversi anni e recentemente ha pubblicato due libri per Pearson e con Linda Cavadini e Agnese, mi pare, Pianigiani. Allora il primo si chiama Leggere, Comprendere e Condividere ed è un saggio per docenti o per chi educa alla lettura per ragazzi. Il secondo, fatto sempre con le stesse quautrici, si chiama Vedere le storie, è uscito quest'anno anche questo per la Pearson Mondadori, ed è una raccolta di sette racconti con delle strategie di comprensione invece per il biennio della secondaria di secondo grado. Ecco, poi ci dirà lei e con lei parla Loredana Semperlotti, che è anche una socia del Gissel Veneto e che noi abbiamo conosciuto nei corsi di grammatica valenziale e si è appassionata più o meno contemporaneamente alla grammatica valenziale e a questo metodo per la scrittura e la lettura. Quindi è sempre informazione, sempre che studia, fa corsi, eccetera, ed è insegnante invece di scuola primaria da 25 anni e formatrice anche lei, anche se da meno tempo di Loretta e lavorano insieme. Ecco, adesso lascio la parola a loro due e alla fine ci saranno le domande. Intanto, mano a mano che vi vengono in mente, le potete scrivere nella chat e poi, se non sono troppe, vi facciamo intervenire con la vostra domanda. Buon lavoro, vediamo. Grazie mille Elena. Mentre Loredana condivide lo schermo, vi racconto di Farid, che è il protagonista della Locandina e Farid era arrivato dall'Afghanistan in prima, avevo una prima qualche anno fa, ormai è il secondo anno di Superi e l'abbiamo accolto e per accoglierlo io avevo letto l'albo in viaggio che vedete nella foto della Locandina e è stato un percorso bellissimo con lui, a riprova che questo approccio è un approccio altamente inclusivo perché poi, come vedremo, attraverso le consulenze individuali, alla fine dell'anno non solo lui è riuscito a scrivere anche delle prime poesie e dei primi testi autobiografici, ma ha letto da solo appunto l'albo illustrato in viaggio di Francesca Sanna e quindi quella foto è alla fine del percorso, lui ha letto quell'albo e poi ha realizzato anche un lavoro di scrivere sul leggere, come diciamo noi, a partire da quell'albo lì e quindi è una foto a cui sono molto affezionata perché mi ricorda sempre perché mi sono messa in ricerca di un altro approccio che appunto abbiamo poi trovato nel Writing and Reading Workshop. Ecco, oggi abbiamo intitolato l'incontro Crescere scrittori e lettori competenti proprio perché in realtà scrittura e lettura sono fortemente intrecciate nel nostro lavoro, anche se oggi ci focalizzeremo principalmente sulla scrittura e sulla lettura di testi modello per la scrittura. Ecco, vai pure Loredana Allora, vorrei dire solo due parole all'inizio di ringraziamento perché poi siamo tutti di corso Sì, vero, verissimo E non dico altro su di me perché Elena vi ha già detto abbastanza ma io vorrei dire che non potrei essere qui intanto senza Elena e senza il gruppo Gishell che mi ha accolta e quindi sono molto felice di essere qui anche grazie a loro ma ovviamente non potrei essere qui senza Loretta De Martin che è stata la mia prima formatrice e che ancora guida il mio percorso E mi illumina veramente e infine soprattutto non potrei essere qui scusate se lo ripeto ma con due colleghe che sono presenti non sono qui a parlare con me ma ci sono e quindi spero che anche loro possano intervenire eventualmente e sono Gloria Dicati e Michela Grigio che fanno formazione con me con loro ho iniziato a studiare e a condividere questo bellissimo percorso e davvero non potrei essere qui senza di loro adesso Loredana il microfono spento Ok eccoci sì anche io devo dire la verità oltre a far parte di appunto una comunità di pratica la mia ricerca parte lontano da quando ho fatto la SIS come diceva la professoressa D'uso qui a Padova e ho incontrato il Gishell attraverso la SIS e ci tengo anche a dirlo perché sentiamo parlare di formazione dei docenti e dei docenti dei futuri docenti e in questi giorni ne sentiamo parlare molto e quindi io credo che ricordare l'esperienza della SIS sia importante perché a me ha dato tantissimo da questo punto di per esempio la prima volta che ho sentito parlare di testo espositivo è stato alla SIS anche perché la mia formazione universitaria è diciamo ha seguito un altro canale sono laureata in storia della critica d'arte Comunque otto anni fa più o meno mi sono messa a cercare un approccio che fosse altamente pratico perché avevo una classe che io ho soprannominato la piccola ONU perché avevo dieci nazionalità diverse avevo quattro ragazzi italiani di cui tre col PDP e tre ne ho arrivati e dovevo portarli agli esami soprattutto volevo regalare loro un'esperienza significativa avendo poco tempo perché li avevo presi in seconda e quindi mi sono messa online e ho trovato il sito che si chiama scuola aumentata di Jenny Poletti Rizzi e lì ho scoperto un modo di fare scuola che mi corrispondeva un modo di insegnare la scrittura e la lettura che mi corrispondeva poi sono andata alle fonti diciamo e qui in questa slide trovate un po' le fonti vi faccio solo notare gli anni delle origini 1968-1975 Donald Murray e Donald Grace due scrittori e insegnanti hanno cominciato a ragionare su come insegnare la scrittura a scuola attraverso l'insegnamento del processo di scrittura quindi la scrittura non come processo non come prodotto ma soprattutto come processo e anche poi come un prodotto finale come vedremo non sono cose del tutto nuove poi qui in Italia ce ne parlerà poi un attimo Loredana e però la mia domanda che ancora oggi non ha trovato risposta è come mai in quegli anni così caldi no di idee di iniziative sia negli Stati Uniti ma anche vedremo in Italia poi molte cose non arrivano nelle classi no ci si ferma a un certo livello e non si sperimenta negli Stati Uniti è stato diffuso questo approccio da Lucy Colkins che è una docente che insegna al Teachers College della Columbia University e da tutto il suo staff che ha sistematizzato questa impostazione del workshop è diventato poi famoso anche in Italia grazie a Nancy Atwell che è una docente che è autrice di In the Middle un attesto che noi chiamiamo la Bibbia scherzosamente anche per il tomo che è molto voluminoso corposo che racconta la sua esperienza di insegnante di lettura e scrittura in una classe di adolescenti anzi in tante classi di adolescenti e ha vinto il Global Teachers Prize nel 2015 ecco perché è diventata forse anche un po' famosa in Italia e noi diceva giustamente la professoressa Duso siamo ci chiamiamo abbiamo preso questo nome scherzoso all'inizio ma poi ci siamo molto affezionate di Italian Writing Teachers e oggi il gruppo Facebook conta ben più di 6.600 membri credo che siamo attorno ai 10.000 oramai e abbiamo questo sito che vi consiglio di andare a visitare perché ci sono tanti suggerimenti pratici e come potrete vedere anche non per chi vuole sposare in toto questo approccio che io preferisco chiamare approccio non metodo perché il metodo mi sa di qualcosa di diciamo da somministrare come una medicina no tu fai così 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 e vedrai che funziona tutto va bene ma noi sappiamo che in classe se poi non è così semplice come come può sembrare e quindi approccio mi pare più elastico come termine sì eccoci qua e ricordiamo come ha detto Loretta no non possiamo dimenticare che in Italia abbiamo avuto dei maestri abbiamo avuto chi ci poteva guidare verso la strada che vedrete con i principi che il VRV in qualche modo fa propri e solo che a noi a noi sembra che tutto questo rimanga un po' dal punto di vista teorico non rimane nella teoria ma è difficile poi eh renderlo pratico eh non serve forse che vi faccia i nomi delle persone che vedete qui raffigurate no ma eh ricordiamo Gianni Rodari ricordiamo il maestro Manzi ricordiamo Mario Lodi eh ricordiamo Maria Montessori eh ricordiamo tutte quelle persone che hanno messo comunque i bambini al centro dell'azione educativa didattica che hanno parlato di comunità eh di bambini che apprendono in comunità di valorizzazione delle dell'individualità eh di dare spazio a ciascuno di noi perché ognuno di noi apprende secondo il proprio ritmo secondo un proprio percorso secondo appunto un proprio processo ehm il fare insieme eh Tullio D'Amalo stesso che parlava eh di quanto le strategie possono essere importanti per avviare i ragazzi e le ragazze di tutta l'età a leggere ad esempio con piacere estetico ed intellettuale quindi le risonanze in Italia ci sono ma vediamo perché noi eh abbracciamo questo metodo quali sono i motivi che ci inducono a a ad abbracciare questo approccio partiamo da tre elementi chiave allora innanzitutto la parola laboratorio vedremo come ehm il laboratorio sta al centro di tutto eh l'agire didattico ed è questo che ha in qualche modo rivoluzionato e che ha messo in atto tutte quelle teorie di cui anche i nostri grandi pedagogisti si sono fatti portavoce eh la mini lezione eh che noi chiamiamo mini lesson eh e le strategie vedremo che cosa intendiamo per mini lezione e per strategie e poi ci soffermeremo su quello che è il lavoro autonomo degli studenti partiamo dal laboratorio quindi dall'organizzazione e del metodo eh del writing and reading workshop un laboratorio è la mente cooperativa realizzata da una pluralità di elementi in interrelazione tra loro e eh questi elementi sono i partecipanti, i docenti e il setting quindi noi questo è il nostro punto di vista sul laboratorio come lo vediamo? Lo vediamo proprio come una mente cooperativa che non è formata dalla somma dei propri elementi ma da questi elementi che stanno in continua interrelazione tra loro ci sono i partecipanti che sono gli studenti ci sono i docenti ma c'è anche il setting l'ambiente vedremo è fondamentale ed ecco qui una sintesi una sintesi che ci dice che cosa significa per noi eh questo laboratorio mente significa che eh siamo di fronte ad un organismo organizzato che costruisce conoscenza attraverso appunto come dicevo la relazione degli elementi dei soggetti che lo compongono in un sistema eh orientato da un preciso scopo l'apprendimento e perché quindi ehm si parliamo di laboratorio perché nel laboratorio costruiamo la conoscenza attraverso un'organizzazione particolare attraverso le relazioni ribadisco tra gli elementi che lo compongono in questo modo si crea movimento si crea azione e con il movimento e l'azione realizziamo il vero apprendimento vediamo subito com'è strutturato vedete due modelli anzi un unico modello organizzativo sia per il laboratorio di lettura che per il laboratorio di scrittura eh questo grafico rappresenta l'incita un'ora di lezione in quest'ora di lezione noi abbiamo un momento quello che abbiamo che chiamiamo mini lezione appunto molto breve ehm dove l'insegnante ehm presenta la sua strategia presenta una lezione molto focalizzata quindi bastano cinque dieci minuti l'insegnante parla mh è lui che fa lezioni in quel momento gli alunni ascoltano poi vedremo un po' nel dettaglio quello che succede eh questi dieci minuti devono essere sufficienti per focalizzare quello che io devo eh presentare e soprattutto per fare in modo che i ragazzi possano seguire con attenzione tutto eh la parte centrale del laboratorio poi è dedicato alla lettura o alla scrittura autonoma eh il tempo della scrittura e della lettura sono ehm le parti più importanti del nostro laboratorio gli studenti lavorano in modo autonomo l'insegnante fa da guida eh come una vera ehm una vera bottega artigianale diciamo noi e infine ehm negli ultimi cinque dieci minuti ci si ritrova per condividere e vedremo cosa eh cinque dieci minuti anche qui non la più naturalmente vedete che i tempi sono flessibili e eh non sono così rigidi soprattutto alla primaria dove qualche aggiustamento lo facciamo in funzione di una gradualità eh è impensabile che ai primi nei primi anni ad esempio un ragazzino di prima elementare già arrivi a quarantacinque 40-45 minuti di scrittura o di lettura autonoma ma vi assicuro che ci arriva comunque in breve tempo e ehm e quindi si può realizzare vediamo ora ehm nel dettaglio della mini lezione e ve la presentiamo con questa foto che siamo molto affezionati perché ci porta appunto una delle nostre altre insegnanti con cui studiamo e ci confrontiamo che è Gloria Di Cati e sta tenendo appunto una mini lezione ai suoi bambini e vedete anche la disposizione ehm diversa dal solito no più riusciamo a sfruttare gli spazi ma è questo è un discorso lungo l'ambiente di apprendimento in modo creativo e flessibile e più ehm entrano nella routine e questo a noi importa molto eh e poi vedremo perché il discorso sulla routine quindi eh cos'è una mini lezione e com'è strutturata diceva Loredana che è brevissima è un breve intervento dell'insegnante eh gli americani eh forti di una lingua che è molto sintetica molto più della nostra e riescono a fare una mini lezione anche in tre minuti eh potete trovarne qualcuno di Jennifer Seravallo che è una maestra del writing e reading workshop e le trovate su YouTube sono impressionanti eh no io non ce la faccio eh io vado tra gli otto e dieci minuti eh è messa all'inizio del laboratorio e ehm in un certo senso proprio prepara alla scrittura e o alla lettura a seconda poi della sessione che abbiamo di fronte in genere in classe io parto sempre con dieci minuti di lettura autonoma di eh romanzi o fumetti o quello che i ragazzi desiderano leggere quindi una dieci minuti che ci predispongono all'attenzione eh poi avviene appunto la mini lesson che è focalizzata su una strategia unica e poi lo vedremo deve essere appunto una unico insegnamento per lezione piuttosto spezzettiamo eh in mini mini lezioni differenti deve essere chiara e quindi deve usare un linguaggio eh diretto e eh io dico sempre un po' come una ricetta di cucina e quindi molto operativa molto procedurale e autentica perché nasce eh dai bisogni dei eh e dei nostri eh ragazzi e ragazze e ehm dalla nostra conoscenza dei loro bisogni come lettori e come scrittori eh una mini lezione poi è messa in pratica immediatamente eh non necessariamente sul testo che loro stanno scrivendo ma anche semplicemente con un piccolo coinvolgimento attivo noi lo chiamiamo in cui eh se io sto insegnando per esempio come si scrive eh come si integra una definizione in un contesto oggi parleremo di testo espositivo anche ehm oppure come si scrive una similitudine per chiarire un concetto eh complesso eh io posso dire bene provate adesso a scrivere una similitudine eh no cinque minuti oppure girati e parla conta al tuo compagno cosa hai imparato di questa strategia quindi li coinvolgo subito ehm verso la fine della mini lezione. La mini lezione poi eh viene conservata in classe e da ogni singolo alunno in un quaderno che diventa una sola una sorta di manuale di scrittura eh che contiene tutte le strategie e eh viene anche esposta nel senso che io dico sempre dobbiamo abitare le pareti delle classi. può sembrare scontato per chi ehm è ehm è alla scuola primaria dove le pareti sono molto abitate da cartelloni e non è così scontato alla secondaria di primo grado in cui le spesso le classi sono abbastanza spoglie eh più lasciamo traccia sulle pareti di quello che stiamo insegnando loro e più loro hanno chiaro lo scopo del nostro percorso. Ehm a cosa serve una mini lezione? Intanto dicevo a creare un'atmosfera del laboratorio a predisporre i ragazzi alla scrittura e alla lettura eh nella mini lezione noi insegniamo strategie che riguardano il processo di scrittura o di lettura e poi vedremo cosa intendiamo e eh insegniamo delle procedure del laboratorio e quindi eh per esempio dove posso trovare dei fogli oppure cosa posso fare quando l'insegnante ha da fare perché magari sta facendo consulenze quindi delle procedure eh che fanno entrare i ragazzi più facilmente nel flusso di scrittura e ehm serve anche a insegnare e a dimostrare poi strategie di scrittura o di lettura. anche questo per quanto riguarda il dimostrare tra un attimo ve ne parlerò cioè noi dobbiamo farci modelli come diceva Loredana siamo come in una bottega artigianale una bottega rinascimentale eh dice Jenny Poletti e eh noi siamo i maestri che scrivono e leggono accanto ai ragazzi e eh condividono con loro strategie e mostrano come si fa. Ehm inoltre al termine della mini lezione c'è anche appunto la breve sperimentazione di quello eh che abbiamo imparato prima della sessione vera e propria. A volte poi capita che siano gli alunni e le alunne a proporre mini lezioni eh perché magari chiedono ma prof potrebbe spiegarci come fare a per esempio una volta mi è capitato eh riguardo al racconto di paura mi hanno detto prof ma come posso fare a aumentare la tensione no? E eh poi abbiamo visto eh a varie strategie per aumentare la tensione in un racconto di paura. e eh come strutturata la mini lezione quindi possiamo ehm suddividerla più o meno in quattro fasi eh quattro o cinque fasi eh il lavoro che stiamo svolgendo assieme ai ragazzi oppure l'esperienza un'esperienza molto pratica e concreta degli alunni ehm per esempio io eh utilizzo sempre eh nel quando devo spiegare loro eh la differenza che c'è tra una cronaca e un racconto autobiografico eh io uso il termine effetto Gardaland e dico sempre avete presente quando andate quando un amico va in gita a Gardaland e vi racconta per filo e per segno cosa ha mangiato all'autogrill la coda quanto lunga era? ecco quello è l'effetto Gardaland e per evitare l'effetto Gardaland cioè la cronaca eh dobbiamo inserire sequenze riflessive sequenze descrittive e quindi eh parto da una connessione molto pratica molto vicina a loro no? in questo caso appunto una gita a Gardaland poi ehm eh c'è l'insegnamento chiave quindi il momento in cui io proprio insegno la strategia quando vogliamo evitare l'effetto cronaca possiamo fare questo questo e questo quindi dare dell'elenco proprio del delle eh delle movimenti delle cose che deve fare uno scrittore per inserire per esempio una sequenza ehm riflessiva che noi chiamiamo pensieri e sentimenti perché anche il lessico è importante nell'approccio del VRV è importante che abbiamo un lessico condiviso che sia rigoroso ma all'inizio che sia anche molto coinvolgente i miei ragazzi adesso in seconda sanno che si chiamano sequenze eh riflessive e non pensieri e sentimenti però è anche un modo veloce per parlare di scrittura in modo informale far sentire che la scrittura fa parte della loro vita e mh c'è poi la fase del modeling molto importante in cui noi mostriamo come si fa e lo mostriamo attraverso testi modello come vedremo che possono essere di autori famosi possono essere di loro compagni eh magari di altre classi e possono essere anzi è auspicabile che siano anche nostri perché anche noi appunto scriviamo con loro è molto motivante vedere l'insegnante che scrive accanto a loro e eh che scrive per loro poi c'è il momento del coinvolgimento attivo come vi dicevo in cui mettono in pratica e poi alla fine il momento del link del collegamento in cui noi ricordiamo loro come questa strategia che abbiamo appena insegnato da questo momento è nella loro cassetta degli attrezzi e quindi anche se sceglieranno di non applicarla in questo testo in particolare poi potrà essere applicata ogni volta che ne avranno bisogno e mh in ogni momento appunto di scrittura oppure di lettura ehm a seconda poi del testo che si trovano a dover scrivere. ecco andiamo a vedere poi qual è il cuore della mini lezione e qual è anche uno dei cuori delle delle consulenze eh di cui vi parlerò dopo eh cioè la strategia eh la strategia per essere funzionale deve essere sensata cioè partire da un perché da un bisogno molto concreto molto autentico eh dei nostri giovani scrittori e delle giovani giovani scrittrice deve essere poi focalizzata su un solo aspetto il cosa deve essere molto molto focalizzato io all'inizio presa dall'entusiasmo una delle prime lezioni che ho fatto è stata sugli incipit e non finivo più di citare possibili incipit li ho storditi eh di eh incipit possibili eh per in quel caso era il racconto autobiografico eh adesso ho imparato eh a eh selezionare e andare piano e quindi per esempio con i ragazzi più grandi ne propongo massimo tre eh di incipit al momento con i più piccoli uno no? Eh questo è un esempio si impara anche dai nostri stessi errori no? Eh all'inizio prese dall'entusiasmo eh e poi ancora non in grado di proprio noi stessi focalizzare bene il concetto di strategia è normale eh non scoraggiamoci eh proviamo. la cosa che funziona di più è chiedermi ma io quando ho bisogno di per esempio eh comprendere ehm un un aspetto di un testo espositivo come faccio a farlo e e lì mi elenco dentro le mie azioni eh oppure di fronte a un romanzo questo esempio lo faccio spesso di fronte a un romanzo con molti personaggi come faccio a ricordarmi chi è chi? e io mi ricordo della mia coppia attascabile di cent'anni di solitudine che davanti all'albero genealogico di tutta la famiglia Buendia l'avevo fatto in quarta liceo perché non riuscivo a star dietro a tutti questi personaggi e quindi questa è una strategia ottima che possiamo insegnare loro. e deve essere breve e sintetica no? Dare subito il come quindi è molto pratica che invitando quindi a sperimentare da subito. Vengono proposte in modo graduali ma l'obiettivo è la ripetizione eh sia la primaria poi Maria Loredana ce lo dice lungo i cinque anni ma anche noi alla alla secondaria di primo grado lavorare un po' a spirale. quindi ti ripropongo la strategia da un altro punto di vista in modo sempre più complesso fino a che diventa routine perché il nostro scopo è che non servano più varie stampelle, vari strumenti come vedremo dopo gli organizzatori grafici che noi forniamo ma che la strategia diventi parte del loro stesso modo di ragionare. le strategie sono tante eh nel laboratorio possono essere quelle che riguardano dicevole procedure, cosa fa un lettore esperto, quali sono le cose che compie un lettore esperto per comprendere eh eh letture proprio eh strategie che riguardano la comprensione del testo eh perché eh certo è importante dare strategie di comprensione prima di fare domande o test di comprensione. eh e quindi questo è un aspetto a cui teniamo molto perché noi possiamo parlare di lettura e piacere della lettura finché vogliamo ma se non c'è comprensione non c'è piacere e quindi non c'è motivazione. e poi possiamo fare strategie eh proporre strategie per come parlare di libri, per come scrivere di libri e quando le proponiamo non soltanto all'inizio della sessione di laboratorio quindi nella mini lezione ma poi anche e questo è il cuore vero del laboratorio durante le consulenze individualizzate e è lì che facciamo la differenza perché è lì che rispondiamo al bisogno del nostro scrittore, della nostra scrittrice in quel momento. ed eccoci con un esempio di strategia di lettura eh proprio per la scuola primaria. Allora come vedete ehm partiamo dall'idea eh stiamo lavorando sui personaggi e partiamo dall'idea che eh quello che caratterizza i personaggi generalmente non è solo l'aspetto fisico. ehm ci sono sicuramente eh anche questi queste caratteristiche però noi un personaggio lo ricordiamo soprattutto per le azioni che compie, per quello che dice, per quello che pensa e per gli sentimenti, le emozioni che prova. ed è questo che dobbiamo cominciare a insegnare anche ai nostri piccoli e voi adesso qui vedete una strategia che è un po' la conclusione di un percorso, ve l'ho messa un po' tutta insieme perché ehm si possa capire un po' qual è l'obiettivo ma come diceva giustamente adesso Loretta dobbiamo imparare un po' a spacchettare soprattutto quando sono piccoli dobbiamo imparare a fare una cosa alla volta perché eh non tutti gli alunni possono riuscire anche a dominare eh la stessa quantità e qualità di informazioni. Allora come qual è l'obiettivo appunto di questa di questa strategia eh come vedete ehm abbiamo nel foglio ehm a riga a sinistra con l'infografica eh che spiega appunto che eh le caratteristiche di un personaggio ehm vengono eh ricavate attraverso eh le cose esterne, quelle che vediamo, quindi possono essere le azioni, possono essere i dialoghi, quindi cosa fa il personaggio, cosa dice ma anche eh attraverso quello che c'è al suo interno e quindi cosa pensa e cosa prova. Come abbiamo lavorato su questo? Dopo averlo presentato eh per intero perché qui ehm sto parlando di un lavoro fatto con dei ragazzini di terza che comunque ehm stavano lavorando con questo metodo fin dalla prima e quindi alcune strategie molto graduali erano già state presentate in precedenza in terza siamo riusciti ad arrivare già a questo punto e eh cosa dovevano fare i ragazzi? Avevano a disposizione dei testi eh quando si fa questo tipo di lavoro eh di immersione diciamo nel testo eh si lavora generalmente a coppie perché in questo modo c'è un lavoro di collaborazione e ehm e si lavora appunto su su ogni aspetto allora si vanno a ricavare le i vari aspetti che vi ho citato quindi vedete semplicemente anche con dei post it cosa dovevano fare i bambini dovevano leggere il testo e sottolineare le parti di testo che eh in qualche modo davano loro una risposta a alle alle domande e e così vediamo in un in un testo ehm che parlava eh di eh era una raccolta una raccolta di di testi di un autore si chiama questo autore si chiama Thun Tellegen ehm che ha come protagonisti tutti tutta una serie di animali eh che molto diversi fra di loro che generalmente non relazionano tantissimo fra di loro non so ad esempio c'è un elefante con uno scoiato oppure lo scoiato con la formica ehm l'irace cioè anche animali che magari i bambini non hanno sentito nominare e mh avevo scelto tutta una serie di eh di racconti che parlavano soprattutto della rabbia in tutte le sue forme e addirittura ne avevamo uno tipo il riccio vedete eh nell'immagine nel post it dove c'è il dialogo del riccio eh dove questo alunno ha scoperto che il riccio era un appassionato di emozioni e che cosa lo fa glielo fa dire ecco qui la domanda chiave che poniamo sempre ai nostri alunni eh io eh dico eh la mia idea eh espongo il mio pensiero ma lo devo giustificare trovando un indizio nel testo che mi fa dire quello che penso perché penso che il riccio sia un appassionato di emozioni perché è lui stesso che lo dice con le sue parole dice che è stato triste dice che è stato felice dice che eh adesso a questo punto vorrebbe anche provare di essere arrabbiato ecco in sostanza poi vedete ci sono altri esempi eh il lavoro mirato che è stato fatto in in questa situazione è stata proprio quella di andare a cercare nel testo degli indizi che mi permettono di dire come posso ricavare il le caratteristiche del personaggio attraverso questi quattro elementi naturalmente il lavoro è stato fatto tutto in una volta vediamo alla secondaria e infatti abbiamo pensato di proporvi ehm in verticale no? Eh per vedere poi a quali obiettivi tendiamo questa è una strategia eh che ho proposto alla fine ehm dell'anno in una prima eh avevamo lavorato eh sull'Odissea in riscrittura e abbiamo scelto delle ottime riscritture tra le quali ehm di Giovanni Nucci Ulisse il mare color del vino e poi uno splendido albo illustrato di Bimba Landman ehm l'intredibile viaggio di Ulisse ehm edito da Arca e abbiamo lavorato eh per ricavare informazioni su Ulisse dal contesto e il contesto soprattutto nel caso del libro di Giovanni Nucci erano gli altri personaggi che parlavano di Ulisse e quindi cosa so di Ulisse attraverso lo sguardo di di Atena per esempio o di Penelope e ehm a fine anno abbiamo fatto appunto eh gli eh gli investigatori e abbiamo fatto una sorta di identichetti Ulisse poi terminata la lettura ho proposto loro eh l'anatomia del personaggio e mhm l'anatomia del personaggio che vedete nel complesso eh tutto insieme proprio la figura del personaggio alcune volte poi loro si divertono a disegnare il volto come lo immaginano e non so avviene molto bene per esempio sul minotauro solitamente e quindi eh vedete nel cervello cosa ha in mente il personaggio no? Cosa pensa il personaggio? In questo caso Ulisse ha in mente la parola guerra, la parola Penelope, Itaca ehm cosa ha cosa come guarda il mondo, qual è la sua visione del mondo attraverso gli occhi, la bocca eh quali sono le sue parole più frequenti o una citazione a seconda poi del di quello del personaggio su cui stiamo lavorando eh cosa quali sono i pesi che porta sulle spalle, cosa porta nel cuore, cosa tiene nella mano destra nel senso di dritta, qual è eh quello che lo mantiene dritto che lo fa andare avanti se vogliamo eh invece a manca a sinistra cosa sono gli aspetti che gli mancano ehm ci sono vedete questi agganci eh linguistici cosa gli manca? e poi abbiamo le radici eh da dove viene e qual è la sua strada, il suo percorso di vita e qual è il suo tallone d'Achille, la sua debolezza e e quindi per esempio eh qui eh una ragazza italo cinese aveva scritto ehm eh radici nelle sue radici c'è la famiglia ma soprattutto la guerra. La guerra eh non potremo mai toglierla perché ormai eh fa parte di lui come un tatuaggio ehm nella pelle e rimarrà eh scusate ho un ecco rimarrà sempre con un segno di pennarello indelebile che anche se tu provi a toglierlo non se ne andrà mai ma rimarrà sempre con te. Nel suo cuore c'è un posticino per Penelope, per Telemaco, per Argo, per i suoi fedeli navigatori, per il suo padre, per Itaca, per Atena e per tutti gli dèi che l'hanno aiutato a tornare a casa. Ecco, alla fine di questo lavoro eh i ragazzi poi hanno eh hanno scritto eh un testo che eh eh cambiando il punto di vista del personaggio e quindi queste proposte di di scrittura che noi chiamiamo creativa solitamente le proponiamo nel laboratorio di lettura non di scrittura e vedremo poi perché eh queste quindi proposte che sono piacevoli eh legate al personaggio, legate all'ambientazione, no cambio ambientazione, cambio il punto di vista eh le proponiamo come eh conclusione del laboratorio di lettura. Loro hanno scritto eh di Ulisse da un altro punto di vista e una mia alunna Rachele ha scritto una bellissima eh visione di Ulisse dal punto di vista del letto noziale e non so se vi capita di andare sul blog che è il blog della mia classe si chiama Polvere di Gesso potete andare a spulciare e lo trovate di sicuro perché è va merita vale la pena. E la stessa cosa poi facciamo con la scrittura per cui eh riallacciandomi comunque all'idea no delle emozioni del del personaggio eh scusate sono andata oltre eh come possiamo ad esempio in scrittura rendere l'emozione di un personaggio come la riconosciamo anche quando leggiamo un testo modello e cerchiamo di capire come l'autore ha reso quel messaggio così significativo quella 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 descrizione così intensa che a noi è piaciuta tanto ed ecco una delle nostre eh strategie eh che una di quelle che utilizziamo di più eh il mostra non dire eh quindi far capire ai bambini che non basta dire non so appunto io ripeto sono con sempre con i miei alunni di terza per cui sono piccolini e ehm che devono esprimere le le loro emozioni e non si devono limitare eventualmente ad un unico aggettivo allora cosa cosa abbiamo fatto intanto abbiamo cercato di capire che cosa significa questo mostra non dire e allora abbiamo durante la mini lesson la mini lezione abbiamo provato a trovare dei sentimenti delle situazioni in cui eh al posto di di dire che sono impaurito lo mostro in che modo lo mostro e semplicemente abbiamo fatto un elenco di cose che succedono quando io ho paura quindi ho il cuore che batte senza sosta ho le mani che tremano le ginocchia che tremano le labbra che tremano eccetera quindi vedete un po' tutto il elenco questo lavoro è stato fatto a coppie in una sessione in cui abbiamo lavorato solo su questo eh spiegata la la strategia durante la fase appunto della mini lezione e eh e qui ho fatto durare quello che noi chiamiamo coinvolgimento attivo un po' più a lungo quindi la parte di lavoro non è stato più solo lavoro autonomo ma per scelta ho eh allungato il momento del coinvolgimento attivo e ho fatto lavorare a coppie su più eh emozioni. Poi però nella sezione nella sessione successiva di laboratorio di scrittura i bambini stavano lavorando ad un testo autobiografico e eh a un certo punto passando in consulenza da uno di loro avevo visto che ehm eh aveva eh scritto mh nel suo racconto lui parlava di una gara di corsa doveva era molto agitato appunto perché ehm voleva ovviamente arrivare primo ma eh quindi c'era tutta l'agitazione della partenza e e quindi cosa abbiamo fatto? In quel momento eh gli ho ricordato la strategia gli ho detto ti ricordi cosa possiamo fare invece di scrivere semplicemente che eri agitato? Quindi lui sul sul taccuino cosa ha fatto? Ha ripreso vedete la lista a sinistra ha scritto agitato ha fatto la sua lista di tutte le situazioni di ciò che si verifica quando uno è agitato e poi a destra ha provato il suo pezzettino eh quel pezzettino che poi è andato ad inserire eh qui eravamo in una fase che chiamiamo di revisione del testo poi questo pezzetto è andato a rinserirlo nella sua stesura nella sua bozza e poi nel nel racconto finale alla secondaria passiamo in una seconda proprio fresca fresca avevo messo un'altra foto più vecchia poi la settimana scorsa abbiamo chiuso il percorso sul racconto di paura e questo è Wisdom il mio ragazzo nigeriano eh che ha il sostegno e trovate sulla sinistra l'inizio del suo racconto e ehm in azzurro poi io durante la fase di consulenza quindi già iniziate a vedere un po' anche come funziona mi sono fermata e ehm ho fatto quattro consulenze con lui la prima mi sono fermata e ehm ho cerchiato la parola foresta ho fatto l'asterisco vedete lui dice era una sera terribile c'erano due ragazzi di nome Enrico e Dario questa la dice lunga perché sono mio compagno e mio figlio la dice lunga su quanto condiviamo un po' in classe anche di noi no? Stavano eh eh passeggiando nella foresta si fermavano un po' eccetera allora io ho detto bene prendiamo questa parola foresta apriamola in due ho girato il foglio vedete infatti noi chiediamo sempre di scrivere su block notice solo da un lato perché d'altro lato ci può servire per la revisione e vedete ho scritto io eh com'era com'erano gli eh gli alberi che rumori sentivano cosa provavano poi l'ho lasciato scrivere no? Sono tornato e ha scritto effettivamente la foresta era piena di foglie rosse sentivano i lupi ululare il vento era così forte e spaventoso gli alberi era tutti crepati spaventoso sentivano dei gufi e negli alberi più grande e spaventoso alle ehm avevano paura della notte e si spaventarono di colpo la volta successiva sono tornata e ho detto bravo wisdom ehm fantastico proviamo anche sotto perché poi questi non si accontentano della foresta vogliono andare anche in un manicomio abbandonato non si fanno perdere niente non si perdono niente e quindi di nuovo abbiamo lavorato sul manicomio abbandonato come era come erano i muri le finestre cosa sentiva nei corridoi cosa provava e di nuovo lui ha scritto ehm poi nella parte della bozza che vedete a sinistra potete notare anche un'altra strategia il suo modo di applicarla ripeto un ragazzino molto fragile e l'anno scorso non sarebbe mai riuscito a scrivere una cosa del genere questo si vede alla fine di due anni di percorso e ha applicato anche la strategia della tensione eh che mi fa ridere detta così eh però sentite Dario stava aspettando Enrico Enrico era andato ehm sentiva delle risate al primo passo sentiva dei rumori al secondo sente dei passi al terzo passo sbucò il killer e le uccise questa è la strategia con cui ehm gli scrittori creano tensione cioè eh in tre momenti la tensione in tre momenti io avevo spiegato questa cosa vi la ricepita benissimo questa strategia comunque dell'aggiungere i dettagli si chiama ovviamente idea dettagli quindi solitamente noi la proponiamo in una tabella T no? Una doppia entrata quindi da un lato mi scrivi la tua idea e poi aggiungi i dettagli ma non basta dire aggiungi i dettagli bisogna dire anche che i dettagli solitamente sono delle risposte alle domande che il lettore può farti no? Un lettore qualsiasi ti chiederà vabbè ma com'è sta foresta no? Eh come erano gli alberi e io le ho scritte le domande i ragazzi più esperti se le pongono da soli oppure alternativa chiedono a un compagno facciamo una consulenza tra pari ti leggo il testo e tu mi fai domande ogni volta che hai bisogno di dettagli e così funziona. Ed eccoci quindi nel cuore del laboratorio quello che appunto abbiamo detto è il momento più lungo e più intenso dove i ragazzi lavorano eh autonomamente singolarmente ognuno al proprio posto e al proprio pezzo. eh questa è un'immagine di repertorio potremmo dire ormai purtroppo eh adesso è difficile per via del covid ancora ricostruire le isole qualcuno di più coraggioso lo ha fatto ma non sempre nelle scuole è consentito. questi sono i miei alunni in in prima elementare e vedete eh come lavoravano e come ognuno è concentrato nel proprio lavoro. Allora cosa succede in questo mh in questo momento? Allora sembra quasi scontato doverlo dire ma eh per imparare a leggere e dobbiamo leggere e leggere e leggere. e come fare però non è così semplice. Allora intanto la cosa più importante che avete visto è il tempo che noi concediamo alla lettura. Non possiamo pensare che i nostri ragazzi imparano a leggere se noi li facciamo leggere eventualmente solo a casa. è a scuola che devono leggere eh soprattutto. Solo quando noi insegneremo loro a eh eh a resistere no? Nel ehm ad avere degli obiettivi di lettura, a sapere che cosa possono leggere, che cosa possono scegliere, a capire perché è importante dedicare del tempo alla lettura. solo se glielo faremo provare anche a scuola eh forse a casa porteranno questo risultato. E poi perché è lì che noi li possiamo osservare. Come possiamo eh capire come imparano a leggere se eh non li guidiamo. Già sappiamo che la lettura è molto difficile da eh percepire. La scrittura la possiamo ancora vedere e valutare ma come facciamo a vedere come leggono i nostri alunni? come facciamo a capire quali strategie applicano eh è veramente molto difficile comprendere le competenze di lettura. Allora bisogna andare anche qui gradualmente e vedete innanzitutto in un laboratorio bisogna cominciare a predisporsi al lavoro e in questo caso nel laboratorio di lettura bisogna predisporsi alla lettura. eh sappiamo benissimo che non è così facile non è che basta dire i bambini prendi in mano il libro adesso si legge per dieci minuti poi per venti poi per trenta e fino a quaranta quarantacinque. eh ci sono bambini che magari sono anche abituati eh ci sono bambini che lo fanno volentieri ma ci sono anche quelli requieti e quelli che non trovano pace. Allora bisogna trovare anche qui appunto delle strategie, delle modalità in modo che loro apprendano questa predisposizione, apprendano questo stare, questo sostare sulla lettura. e fra le ehm le strategie più importanti che dobbiamo insegnare sono sicuramente quelle che ci portano a capire come scegliere un libro con consapevolezza. lo sappiamo tutti che non è una cosa facile. Io mi ricordo quando all'inizio quando insomma eh avevo cominciato a come dire ad avvicinarmi in maniera molto appassionata alla lettura in età adolescenziale. eh però mi capitava di entrare eh in libreria e a volte non sapere cosa scegliere, quale sarà il libro che mi piace e per i ragazzini eh è difficile ovviamente. Quindi insegniamo proprio anche delle strategie semplici per i bambini piccoli, anche semplicemente capire eh se il libro è troppo facile o troppo difficile per me. ehm dobbiamo insegnare loro a porsi degli obiettivi e anche qui tutto in forma graduale eh dobbiamo insegnare loro a a resistere no? a poter leggere per per più tempo e quindi eh ad esempio noi consigliamo eh ma soprattutto a quei bambini che vediamo in difficoltà a prendere dei post it a decidere fin dall'inizio del laboratorio di lettura quante pagine vorrai leggere oggi prova a guardare il tuo libro pensa a dove potresti arrivare mettiti un post it e cerca di leggere per tutto il tempo concentrato concentrata finché non arrivi fino a lì. e e vi assicuro che questo ha aiutato tantissimo soprattutto quelli che eh che fanno fatica a rimanere concentrati eh poi succedevano delle cose bellissime del tipo maestra sono arrivata il post it cosa devo fare posso andare avanti e e naturalmente eh è chiaro che questo questo dimostra anche quanto anche i più bravi a volte hanno bisogno comunque di capire come funzionano queste queste strategie. ehm è importante insegnare a loro come eh annotare ad esempio sul taccuino eh come ehm come cogliere queste strategie ehm come imparare a leggere perché fin dalla da piccoli non insegniamo solo la lettura strumentale ma anche insegniamo a leggere chiediamo a loro di cercare di capire come devono leggere anche semplicemente pensando a come come scegliere il tono della voce eh a come utilizzare la punteggiatura e poi bisogna imparare a leggere come scrittori come dicevamo prima no? eh presentiamo una strategia di scrittura questa strategia di scrittura spesso eh la incontriamo nei testi che noi chiamiamo testi modello, testi mentor e quindi eh vediamo come nella lettura e durante il laboratorio di lettura eh gli alunni possono essere aiutati a ricercare quelle stesse strategie. naturalmente poi eh in questo laboratorio la maggior parte delle strategie riguarderanno la comprensione eh nei primi anni anche la 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 come dicevo la scrittura la lettura strumentale scusate quindi la scorrevolezza, la fluidità, l'espressività ma poi la maggior parte delle ehm delle strategie saranno improntate sulla comprensione del testo. altra cosa importante è parlare di libri perché eh è solo in questo modo durante nella condivisione che ehm io riesco a capire se ho compreso veramente quello che ho letto. nel testo ehm di dicembre c'è proprio una una citazione fatta da una ragazzina che dice che eh non si comprende fino a fondo un testo fino a quando non si parla eh non si condivide con con gli altri. e poi ehm riusciamo in eh in questo lavoro autonomo in questi laboratori eh riusciamo a trovare dei criteri di eh valutazione condivisi perché quando parliamo di strategie le strategie saranno ehm quelle ehm quelle attività che i ragazzini andranno a fare e quelle eh competenze che noi andremo a valutare che noi andremo a valutare quindi andremo a costruire degli strumenti di valutazione assieme ai ragazzi che saranno basati su quello che noi chiediamo loro di portare avanti. E lo stesso discorso e non mi dilungo perché lo lo potrei ripetere ovviamente con competenze diverse vale per la scrittura. Anche qui ripeto ehm è è inevitabile che per imparare a scrivere dobbiamo scrivere, 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 scrivere. Anche qui dobbiamo predisporre un ambiente adatto alla scrittura, dobbiamo dare la possibilità ai ragazzi di sapere dove sono i loro materiali, come li devono scegliere. Chiaramente nel periodo del covid abbiamo avuto molte difficoltà nella gestione di questo spazio e di questo tempo, ma abbiamo cercato tenacemente comunque di difenderlo e e e quindi eh anche se non avevamo più la possibilità di avere degli spazi comune dove condividere i materiali, ad esempio eh questo 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 momento, questo fatto che i ragazzi devono agire in autonomia ehm è eh come dire va sempre eh insegnato e va sempre valorizzato perché eh quello che deve fare l'insegnante e durante tutto il lavoratorio è appunto guidare e eh consigliare i ragazzi che stanno lavorando. Non possiamo perderci nel consegnare i fogli, nel sapere dove trovano le penne, nel sapere dove eh trovano il materiale necessario. Quindi è importante che i ragazzi riescono a lavorare in un ambiente organizzato. Altra cosa importante devono conoscere il processo di scrittura, come diceva prima Loretta eh quello su cui noi lavoriamo è ehm sicuramente tutto l'aspetto pratico riguarda il processo. Quello che interessa a noi non è tanto il prodotto finale, certo quello chiaramente è il risultato di quello che abbiamo svolto durante il laboratorio, ma per i ragazzi è importante sapere eh cosa stanno facendo in ogni momento, qual è lo scopo del loro lavoro, come si porta eh avanti un testo dall'inizio ehm alla fine. E il processo va sempre rivisto insieme a loro e va sempre ripetuto perché non è mai acquisito fino in fondo, soprattutto alla scuola primaria. Altra cosa fondamentale per quanto riguarda la scrittura, eh noi non diamo degli argomenti ehm nei nei dei testi. I ragazzi sono ehm chiamati a scegliere i propri argomenti di scrittura. Eh noi normalmente eh facciamo, scegliamo diciamo il il genere che eh tratteremo in un certo periodo, noi li chiamiamo moduli, quindi ehm durante tutto l'anno dividiamo il nostro percorso in più moduli e in questi moduli trattiamo generi diversi, ma all'interno di ogni genere ogni alunno si sceglie il proprio argomento. Per poter lavorare su un argomento anche eh personale bisogna però immergersi nei testi, bisogna lavorare su quelli che sono eh i testi di riferimento e ehm e quindi questa fase di immersione è la fase che ci permette di capire com'è strutturato il testo che noi vogliamo eh arrivare a scrivere e eh e soprattutto quali sono le strategie che potremmo ehm ricavare e quindi scoprire e utilizzare le strategie e come prima, come prima vi dicevo per la lettura, anche qui eh trovare criteri di valutazione condivisi. Sì eh scusate un attimo solo, scusate un attimo solo, c'è qualcuno e pare serena bianca che scrive sullo schermo. Allora non va bene. No infatti scusate io non ho voluto interrompere ma se continua devo devo espellerla dall'incontro ma mi dispiacerebbe forse c'è un bambino che gioca. Può darsi che io non ho idea di come funzioni. Eh neanch'io non ho mai visto questa cosa. No neanch'io quindi sì per carità riusciamo comunque a leggere. All'inizio pensavo fosse un disegnetto dello schermo. No infatti io avevo paura di essere stata, cioè sono qua che non tocco nulla perché credevo di aver fatto qualcosa ma eh ovviamente non è così. Eh e allora chiedo di interrompere questo questa scrittura se no devo bloccare la partecipante. Prego adesso andate avanti. Grazie Elena. Grazie. Volevo dire che in link lì trovate un esempio di proprio di racconto eh fatto partire da eh l'immersione nel genere micro racconto e trovate eh la foto nella foto è un taccuino di un mio alunno che sta scrivendo cosa vuol dire secondo lui un racconto breve di qualità. Un micro racconto. Se vuoi lo facciamo vedere lo facciamo vedere Loretta oppure no no secondo me no andiamo avanti perché se vuoi non ce la facciamo. Se vuoi lo facciamo in tempo. Sì eh allora inevitabilmente poi eh nel laboratorio sviluppiamo anche lavorando in questo modo le competenze sociali perché eh se noi impariamo a riflettere a conversare a pensare a esperire in prima persona le nostre opinioni a condividere con gli altri e quindi inevitabilmente coltiviamo il pensiero critico e impariamo a lavorare con i propri pari per risolvere dei problemi perché le strategie poi sono alla fine eh delle soluzioni e dei piccoli problemi che ci poniamo come diceva prima Loretta no come eh se se voglio sapere com'era la foresta mi pongo delle domande quindi ho un problema devo risolverlo in questo modo e inevitabilmente ripeto impariamo ad esprimerci in un modo chiaro e anche però personale e quindi eh sviluppiamo anche l'interazione con gli altri attraverso la comunicazione e infine eh è così che sviluppiamo anche la nostra creatività imparando a creare qualcosa incredibilmente a partire da un foglio bianco e davvero credo che eh il foglio bianco potremmo dire non ci spaventa più Sì già questo è un risultato grandissimo eh perché purtroppo il livello di ansia dei nostri alunni dai bambini ai ragazzi fino alle superiori in realtà è altissimo è un problema che dobbiamo porci eh come insegnanti e come comunità comunità educante come mai arrivano così ansiosi ehm a scuola cosa facciamo anche noi forse per ridurre il livello d'ansia e mh le consulenze velocemente come vi dicevo sono eh dei momenti in cui noi individualizziamo l'insegnamento e siamo lì eh per parlare con quello scrittore con quella scrittrice o lettore lettrice in quel momento Lucy Colkins dice teach the writer not the writing quindi insegna ehm allo scrittore non la scrittura scusate eh scusate eh insegna allo scrittore non la scrittura dicevo e quindi si parte sempre dalla identità del nostro scrittore o scrittrice e eh dai suoi bisogni se io mi trovo davanti un testo eh terribile da tanti punti di vista non so per esempio dal punto di vista morfo sintattico ma in quel momento il mio alunno ha bisogno per esempio di ampliare il suo testo perché sappiamo bene che più scriviamo più è facile scrivere più c'è scorrevolezza pensate al mio alunno di prima allora io deciderò di non intervenire in quel momento su quell'aspetto ci saranno altre consulenze altri momenti abbiamo tre anni o le colleghe della primaria cinque anni però in quel momento lì se c'è quel bisogno perché emerge il bisogno di raccontare di più e era chiaro che wisdom avesse voglia di raccontare gli piaceva molto scrivere il suo racconto di paura e allora ti insegno a raccontare di più e quindi è davvero eh quella che Jenny chiama eh l'inclusione invisibile perché eh io non ho più eh lavori differenziati per i miei ragazzi tutti lavorano al loro processo secondo i loro tempi i loro ritmi eh nelle consulenze io posso fare dei complimenti ci sono le consulenze proprio di complimento posso insegnare o consolidare una strategia è un momento in cui favorisco la metacognizione l'autovalutazione perché chiedo sempre a loro come sta andando su cosa stai lavorando in questo momento vuoi mostrarmi un punto del tuo racconto del tuo testo espositivo del tuo testo argomentativo in cui vuoi che io ti aiuti a intervenire in cui vogliamo ragionare insieme e poi cercare che siano loro a dire quello che manca quello che potrebbe essere modificato no e eh poi offrire la nostra strategia e lasciare alla fine banalmente un post it come promemoria eh lasciare qualcosa di concreto alla fine è un forte aggancio soprattutto per i ragazzi e i bambini più fragili e le consulenze sono eh il cuore del laboratorio anche per un altro motivo perché noi parliamo molto di valutazione formativa eh ma a volte non sappiamo come fare no perché alla fine si arriva al numero si arriva al voto eppure nel momento in cui il ragazzo mi racconta di sé è già una valutazione narrativa e auto no autovalutazione narrativa e poi man mano andiamo davvero verso una valutazione eh che eh nutre che aiuta a crescere perché un numero non riesce ad aiutare a crescere gli scrittori hanno bisogno di feedback non di numeri arriva anche il numero ovviamente perché se non altro perché ce lo chiede il nostro mandato e ehm e poi le consulenze servono a moltiplicare la conoscenza perché se per esempio invece voglio lavorare sul potenziamento di un alunno o di un alunno particolarmente bravi avanti con la scrittura io posso offrire strategie aggiuntive per esempio è un po' di anni che io quando lavoro sul testo argomentativo propongo a tutta la classe la struttura base mentre invece a livello individualizzato propongo l'antitesi la confutazione dell'antitesi e quindi lo step successivo e poi la condivisione che è un momento è il momento finale con cui si chiude ogni nostra sessione di laboratorio è il momento dell'ascolto reciproco insegnare ad ascoltare l'altro in modo attivo imparare dall'altro imparare da anche dai suoi dubbi perché loro possono condividere un pezzo particolarmente riuscito un passaggio che a loro piace possono condividere dei dubbi possono condividere anche una strategia che hanno trovato e che funziona. è il momento anche dell'incoraggiamento dell'applauso e in cui noi lavoriamo sulla gioia della scrittura e sul fatto che di nuovo siamo una comunità che ha tante storie da condividere perché siamo tutti fatti di storie come dice Edoardo Galeano. E quindi adesso un bel viaggio prima alla primaria e poi alla secondaria di prima. E alla secondaria. Adesso devo interrompere questa vediamo se riesco. No no da l'aria dovresti riuscire. Dovrei riuscire sì infatti. Vediamo. Sì. Eccolo qua. Un attimo che si carica. Rimane questa macchia. Sì. Mi spiace perché anche nella registrazione sarà così? Siamo di sì. E eccoci qui allora a parlare di di testo informativo con questo titolo che poi un po' sveleremo verità e meraviglia il testo informativo alla alla primaria. Allora adesso vi presenteremo questi questi due percorsi che abbiamo scelto perché pensiamo possa essere un argomento un po' insolito nelle nostre classi di italiano perché affrontano il testo informativo appunto da due da due punti di vista che sono perfettamente riassunti nella citazione che adesso vi vado a leggere. Allora la scuola dovrebbe affrontare il problema della scrittura da due versanti reciprocamente complementari scrivere per imparare e imparare a scrivere nel primo caso si tratta di utilizzare la scrittura come strumento per chiarire organizzare e memorizzare competenze disciplinari nel secondo di apprendere i processi e le strategie operative che consentono di gestire con successo l'attività dello scrivere. Devo essere sincera che prima di lavorare con questo approccio è vero che io insegno italiano da un tempo relativamente breve rispetto alla mia carriera perché prima sapete alla primaria si insegna sempre un po' di tutto e quindi non è da molto che insegno italiano ma è vero che non avevo mai pensato a questo aspetto no questo doppio compito della della scrittura si scrive per imparare e cioè si impara a scrivere ma si scrive proprio anche per imparare. Il processo di scrittura dovrebbe sempre portarci quindi ad una ad una trasformazione attraverso la scrittura e un autore elabora le proprie idee e fa chiarezza quando quando si scrive proprio perché vogliamo andare avanti nel nostro discorso proprio perché continuiamo a chiederci se quello che diciamo e quello che scriviamo è proprio quello che intendiamo attraverso la scrittura e soprattutto attraverso quello che noi insegniamo nel processo ehm i nostri alunni arrivano a comprendere meglio loro stessi quello che è il loro pensiero e questo quindi è a maggior ragione l'obiettivo che dovremmo avere con i test informativi ma vediamo qui da questa slide un po' brevemente cosa succede in realtà ehm nella scuola primaria io non ho fatto grandi indagini mi sono basata per lo più sull'esperienza un po' diretta per cui può darsi anche che qualcuno ehm non si ritrovi in queste definizioni però eh io ho fatto questo lavoro soprattutto anche rispetto a quello che io stessa facevo prima quindi alla primaria il testo informativo viene considerato un testo appunto che eh scrive su tutto ciò che è vero i contenuti sono fatti informazioni opinioni ha uno scopo essenzialmente divulgativo cioè eh per trasmettere ovviamente delle conoscenze ha una struttura mh fissa eh basata su criteri logici su un ordine preciso di presentazione delle informazioni e si basa su un linguaggio chiaro specifico e oggettivo questo è un po' quello che insegniamo ai nostri alunni e eh a dir la verità poi eh in classe lo utilizziamo soprattutto per lo studio delle discipline eh si presenta generalmente poi a partire dalla terza classe ne analizziamo appunto la struttura il contenuto il linguaggio ma sempre per lo più in funzione dello studio e poi abbiamo una scrittura che è generalmente finalizzata a una sintesi cioè il riassunto perché poi anche questo riassunto è finalizzato ad un'esposizione ad un'eventuale interrogazione si propongono degli schemi già pronti e nella migliore delle ipotesi questi schemi eh si deducono dall'osservazione dei testi quindi si fanno ricavare agli alunni ma spesso andiamo a vedere quelli che sono gli schemi che ci propongono i testi testi in uso quindi i vari sussidiari dei linguaggi o delle discipline raramente si scrivono testi informativi ed è da qui che noi siamo partiti eh è questa eh la cosa che eh ha un po' ehm mi ha fatto un po' cambiare prospettiva perché ehm come eh dice il titolo no verità e meraviglia eh soprattutto nel generale informativo dovrebbero coesistere questo è vero soprattutto per i bambini la conoscenza per essere vera deve necessariamente passare per l'esperienza sensoriale deve coinvolgerci fisicamente e affettivamente e non deve solamente sollecitare il nostro intelletto e per questo dico questo è vero non solo per i nostri alunni ma anche per noi e vediamo che spesso invece la scuola dà priorità a quella che è la sfera relazionale e logico verbale quindi eh il VRV in qualche modo mi ha aperto un nuovo sguardo ehm eh nei confronti di questa tipologia flessuale di questo genere testuale nuovo però vedete come vi ho scritto in questa slide eh fino a un certo punto eh perché già nel millenovecentosettantadue eh questa studiosa mergeri Fisher eh una studiosa britannica di letteratura per l'infanzia constatava come la divulgazione scientifica per bambini fosse valutata da critici genitori e insegnanti sulla base di criteri relativi all'esattezza dei fatti riportati all'accuratezza scientifica dei contenuti lasciando quindi di considerare il libro per il suo valore letterario complessivo con il suo apparato grafico ma anche con l'impronta stilistica dell'autore di la sua capacità o eventualmente la sua inadeguatezza di suscitare l'interesse e le domande del lettore quindi eh il libro il testo informativo eh che spesso poi noi non troviamo nei sussidiari perché ripeto nei sussidiari dei linguaggi troviamo solo negli nei testi eh nei testi complementari degli schemi per studiare questi testi ma non troviamo ad esempio eh nella parte dedicata alle letture dei veri propri testi informativi su cui lavorare anche per la scrittura ed ecco che per fortuna eh in questi ultimi anni ci sono venuti in soccorso e forse anche questo ha aiutato un po' a cambiare questa prospettiva questo nuovo approccio eh che riguarda il testo informativo non solo dal punto di vista del lettore non solo dal punto di vista dello studioso di quello che deve imparare dal testo ma anche proprio dal punto di vista dello scrittore in questo caso eh abbiamo eh sperimentato come è la scrittura che viene eh in supporto della lettura noi diciamo spesso che per essere dei bravi scrittori dobbiamo essere dei forti lettori in questo caso dobbiamo imparare a diventare dei bravi scrittori per imparare a comprendere meglio un testo informativo a capire com'è strutturato a capire com'è fatto per poterlo conoscere e per poterlo imparare e per poter imparare dal testo. Come dicevo in questi ultimi anni voi sapete che alla scuola primaria lavoriamo molto con gli albi illustrati un impulso a a questo cambiamento di prospettiva l'hanno dato sicuramente i tantissimi eh albi illustrati di genere informativo che sono usciti. vedete vi ho messo questa citazione di Coran Lorenz che ci fa capire eh come sono come sono che cosa abbiamo trovato in in questi albi eh colui che abbia visto l'intima bellezza della natura deve diventare o un poeta o un naturalista e se i suoi occhi sono buoni e le sue capacità di osservazione acute a sufficienza potrebbe anche diventare entrambi. È questo che spesso noi troviamo in questi albi eh che hanno delle bellissime illustrazioni che ci conducono veramente in nel mondo venaviglioso eh delle realtà delle più disparate ma non utilizzano solo un linguaggio per rigido eh un linguaggio eh assettico eh perché dobbiamo solo parlare di cose vere ma questi questi testi sanno arrivare al cuore ehm dei nostri lettori sanno usare anche un linguaggio poetico sanno eh meravigliare perché la prima cosa che dobbiamo fare è appunto catturare i nostri lettori i nostri lettori attraverso la curiosità la meraviglia ed ecco con il VRV come affrontiamo il il testo informativo eh intanto non lo eh introduciamo eh quando sono eh più grandi ma cominciamo fin dai primi anni della scuola primaria sia nel laboratorio di scrittura che in quello di lettura iniziamo appunto a suscitare stupore e meraviglia sfruttando quella che è la naturale curiosità dei bambini e delle bambine per tutto quello che eh le circonda e eh per questo vi ho messo un piccolo contributo di Daniela Lucangeli che eh ci dice citando Berlin come eh la curiosità non deve nutrire solo il sapere ma deve nutrire soprattutto il desiderio di sapere e di sapere ancora deve essere una spirale una domanda che tira l'altra invitiamo quindi gli studenti a scrivere per un pubblico eh per suscitare l'interesse del lettore e per rispondere alle loro domande e vediamo che anche per questo eh testo il lavoro che viene ehm viene presentato è basato sempre sul processo di scrittura quindi sempre partiamo da ehm capire cosa vogliamo scrivere attraverso la generazione delle idee quindi è l'alunno sono gli alunni le alunne che si scelgono il loro argomento ma per poterselo scegliere devono capire che cosa vogliono eh vogliono scrivere e per quanto riguarda il testo informativo soprattutto per i più piccoli si parte sempre da quello che si sa dopo aver generato le proprie idee eh dobbiamo imparare a pianificare il nostro testo prima di scrivere una bozza prima di fare eh di iniziare il nostro lavoro dobbiamo fare una previsione di quella che sarà la struttura del nostro testo e una volta individuato il nostro argomento attraverso strategie che ci portano a capire come sceglierlo iniziamo a stendere la nostra bozza e già nella prima rilettura possiamo parlare di revisione dove aggiungiamo dettagli eh inseriamo disegni le di tascalie l'introduzione insomma tutti quegli apparati testuali tutte quelle informazioni e le modalità in cui le inseriamo che fanno parte delle caratteristiche del testo che abbiamo visto all'inizio e infine creiamo dei veri e propri eh anche noi con i piccoli non non produciamo dei testi a caso ai bambini insegniamo proprio a scrivere dei mini libri e che per loro diventano dei mini albi illustrati perché hanno come modello dei testi di qualità e eh attraverso la prima fase di editing dove correggono eh la parte formale del testo eh poi si arriva alla pubblicazione dello stesso ed ecco vedete eh quello che vi dicevo si può affrontare la scrittura di un testo informativo fin da piccoli quello che vedete sotto le quattro immagini che vedete sotto eh nella slide sono eh sono le immagini di un piccolo libretto fatto da una mia alunna in prima ehm stavamo lavorando in realtà al testo narrativo ma lei ha scritto più libretti e fra questi io ho trovato tra i suoi lavori ho trovato anche anche questo eh io credo che eh prima del VRV fosse avrei preso questo libretto avrei detto la bambina che aveva sbagliato il lavoro invece anche questo insegna il VRV eh a non buttare via niente a imparare da quelli che sono tra virgolette degli errori perché questo non è un errore è semplicemente non è un testo eh di fiction non è un testo narrativo ma questo è servito a me invece come testo modello e anche qui torniamo a ad un ehm una cosa importante che eh che non abbiamo detto prima i testi modello sono sicuramente testi di qualità sono testi di autori che ci possono dare eh degli esempi autorevoli appunto ma per i bambini possono essere possiamo essere noi ma possono essere anche i loro compagni perché nella loro semplicità sanno essere anche più concreti. allora vedete qui c'è tutto c'è una struttura divisa in quattro sequenze anzi in tre perché la prima è la copertina ma vedete c'è la copertina ci sono i numeri delle pagine c'è un titolo c'è un disegno di copertina che mi dice quello che sarà l'argomento del testo c'è un'immagine un disegno con delle etichette le etichette che richiamano le parti del corpo poi nella pagina successiva abbiamo già una bozza di sotto argomento cioè noi parliamo del corpo umano poi quali sono le cose del corpo allora andiamo a focalizzarci sulle varie parti e vedete che già c'è anche un minimo di didascalia perché la bocca serve a parlare e mangiare gli occhi servono a vedere e poi abbiamo questa cosa meravigliosa quello che abbiamo fuori dal corpo quindi il dentro e il fuori abbiamo le magliette abbiamo i pantaloni gli anelli braccialetti e le gonne quindi vedete come da un lavoro che era stato fatto sul narrativo quindi avevamo lavorato sicuramente sulla struttura del testo avevamo lavorato su ehm su come si sviluppa un testo ma qui è venuto fuori qualcosa di diverso e vediamo come si può lavorare anche di iniziare a lavorare è molto importante capire come sono fatti questi testi non possiamo far scrivere un testo informativo a un ragazzino una ragazzina se non gli facciamo capire come sono strutturati cercherò di andare un po' in fretta perché ehm le cose da dire sarebbero tante ma eh è difficile anche condensarle quindi eh spero di ehm di dire eh le cose eh necessarie e mh non dilungarmi troppo ma vedete anche aiutati dalle immagini cosa facciamo nell'immersione focalizziamo la nostra attenzione su quelle che sono le caratteristiche del testo su quale sono le forme le funzioni degli elementi paratestuali su come organizzato su come vengono presentate le informazioni su come possono essere selezionati gli argomenti e poi su come sono selezionati e suddivisi eh i sotto argomenti e vedete ehm nell'immagine questo è un lavoro di gruppo dove ho preso questa volta un testo del loro sussidiario quindi un testo che loro padroneggiano per lo studio e eh in gruppo hanno evidenziato quelle che sono le caratteristiche di questa pagina. Poi eh scusate abbiamo lavorato anche eh sotto questo profilo abbiamo preso eh degli albi illustrati i bambini hanno lavorato a coppie hanno sfogliato i loro testi con lo scopo di trovare le caratteristiche del testo anche eh in un testo di questi ehm appunto di questi autori. e dovevano indicare non solo quali erano le caratteristiche ma dove si trovavano nel testo questo è importante perché poi dovranno fare la stessa cosa quando scriveranno i loro libretti e soprattutto a cosa mi servono queste informazioni? ehm un'immagine una didascalia un elenco puntato che cosa eh a cosa serve? Ehm perché aiuta il lettore a leggere e a comprendere meglio il mio testo? Questi interrogativi sono fondamentali mi servono per scriverlo il testo ma come dicevo prima mi servono soprattutto per capire come funziona e quindi lo capirò meglio anche nello studio. e poi ci immergiamo attraverso le domande ci poniamo delle domande questa è stata una strategia vincente perché ho potuto riproporla in varie fasi della eh del processo quindi all'inizio durante l'immersione eh attraverso l'analisi appunto dei testi modello eh i bambini dovevano individuare prima di tutto cosa ehm il eh cosa cosa questo testo vuole che io sappia cioè questo testo che cosa mi racconta che cosa mi vuole insegnare ma per il discorso che facevamo prima eh il testo può anche eh volermi far provare qualcosa quindi cosa vuole che io provi questo testo e cosa vuole che io pensi e poi ovviamente in quale modo quegli elementi caratteristici che io ho trovato nel testo mi aiutano a capire meglio eh l'argomento perché lo scopo della divulgazione appunto è innanzitutto innescare la curiosità sollecitare il pensiero indurre all'azione indurre ad andare sempre oltre a chiedere ancora ancora e eh e quindi devono generare stupore per qualcosa che magari non ho mai immaginato eh che eh di sapere o o o o di conoscere o che mi sarebbe mai interessato quindi un atteggiamento di curiosità rispetto questo testo ed ecco il lavoro dei bambini di una classe quarta questa volta eh sempre un lavoro di coppia un testo e nel taccuino eh ogni coppia doveva trovare le proprie risposte ed ecco che questo testo ad esempio vuole eh che io sappia come eh come gli animali depongono le uova eh vuole eh vuole che io provi la curiosità per questo argomento quindi tutti i tipi di uova proposte in questo libro eh vuole che io sappia eh riconoscere eventualmente eh tutte queste tipologie e cosa vuole che io pensi vuole che io pensi che nel mondo eh esistono molte eh molti tipi di uova e come gli animali le depongono ehm un altro esempio esempio velocemente vedete da un titolo apparentemente strano bravissimi cosa vuol dire che gli animali sono bravissimi che cosa mi vuole dire questo testo eh cosa c'entra l'essere bravi allora vediamo che questo testo vuole che io sappia che questi animali sono bravissimi perché in realtà sono utili alla vita di tutti sia al eh la vita dell'uomo ma anche alla vita della natura in generale e questo testo vuole che io provi stupore perché ad esempio e qui c'è un esempio di quello che hanno trovato di un'informazione non sapevo che un uccello che c'è un uccello che sa trovare il miele e ho trovato strano sapere ad esempio che questo uccellino è in grado di mangiare la cera e ho provato questa bellissima incredulità e poi velocemente questa parte vado un po' più eh un po' più rapida perché poi anche Loretta nella sua parte si soffermerà per quanto riguarda la secondaria iniziamo a ehm a cercare di capire come eh vogliamo eh cioè cosa vogliamo scrivere quindi a generare le nostre idee attraverso quelli che noi chiamiamo gli attivatori che non sono altro che delle immagini dei dei disegni come vedete il cuore dove noi ehm se dobbiamo partire dalle nostre conoscenze se dobbiamo partire da quello che sappiamo e da quello che ci appassiona non possiamo far altro che pensare a quello che ci sta a cuore quali sono le passioni il cuore delle mie passioni ed è lì che posso scegliere il mio argomento oppure posso limitarmi a fare delle liste da queste liste sceglierò quello che è eh il mio argomento del cuore di quel momento lì e per selezionare la mia idea quindi farò una mappa delle idee poi predisporrò un indice perché attraverso mh lo studio della mappa e attraverso l'indice saprò come ehm predisporre il mio lavoro e comincio a scrivere comincio a scrivere eh iniziando di nuovo dall'indice quindi vedete anche le strategie che si riprendono e si richiamano in continuazione dopo aver creato il mio indice io scelgo un argomento e comincio a svilupparlo con le caratteristiche che ho imparato durante l'immersione con strategie che l'insegnante giorno per giorno mi insegna come ad esempio suddividere un argomento in sotto argomenti come poi sostenere le mie informazioni vedete qui nel testo come è stata usata allora gli attrezzi come sono state usate le immagini le didascalie cosa sono gli attrezzi eh le parole in grassetto e naturalmente ehm in questa fase come dicevo partiamo dalla ehm dalla scrittura dalla stesura della bozza ma passiamo rapidamente alla revisione e poi il richiamo in questo caso vi ho detto questa strategia delle domande l'abbiamo riutilizzata per scrivere la nostra introduzione perché sempre durante la fase di immersione ci siamo accorti che alcune introduzioni erano proprio costruite sulle nostre domande erano costruite su ciò che il lettore vuole che io sappia su ciò che il lettore vuole che io pensi e ciò che il lettore vuole che io provi guardate vi leggo e poi vi resteranno queste slide perché ve le andrete a guardare ma vi leggo velocemente questa caro lettore il mondo degli animali è popolato da numerose varietà di cuccioli genitori e famiglie in questo libro te ne presento un po' quindi non ti parlerò di tutti gli animali anche questo è importante andiamo a scegliere qualcosa un semino non andiamo come diceva all'effetto Gardaland no non non ti parlerò di tutti gli animali ma solo di un po' di animali ti parlerò dei cuccioli e ti parlerò dei genitori e di queste famiglie alcuni cuccioli vivono con le proprie famiglie per molto tempo altri devono invece crescere molto velocemente quindi queste sono le informazioni che io do cosa devo sapere come gli uomini tutti gli animali vogliono che i propri cuccioli abbiano l'opportunità di crescere forti e sani spero che il libro ti piaccia che tu possa imparare qualcosa di nuovo ecco lo scopo no di questo libro e che possa trasmetterti guardate l'affascinante diversità del mondo animale quante cose importanti qui potremmo discutere per delle ore ma non abbiamo il tempo dopo aver fatto presentato questo nella mini lezione dopo lavorato anche qui con un paio di incipit non occorre molti qui si parla dell'esperienza della della lettrice della scrittrice e anche qui la meraviglia certo si vanno a scegliere dei 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 testi che che richiamano quello che noi abbiamo detto fino adesso no? ed ecco eh il prodotto dei miei alunni queste sono le loro introduzioni ehm con le domande no? Vedete vuoi una moto? Sì vero ma hai paura di spendere troppo giusto? Saranno spesi bene fidati un po' di motivi validi per comprarla? Ok allora eccoli ti muoverai più velocemente anche in mezzo al traffico non metterai molto ad imparare io ci ho messo solo un'ora ne vale la pena vero? Poi scusate non leggo perché c'è la macchia ma vabbè eh i tuoi primi giri eh dunque forse i tuoi primi giri avrai paura ma poi eh correre con ma poi eh poi correrai con coraggio eh e ancora meglio con l'acceleratore al massimo buona lettura. e ci sono tanti esempi e vedrete che negli esempi eh ritroviamo anche eh quello che abbiamo trovato nell'introduzione molti di loro dicono caro lettore si rivolgono al lettore molti di loro dicono in questo testo non troverai tutto quanto ma solo questo e guardate che sono veramente conquiste importantissimi per questa età ecco vedete il caro lettore insomma mh sarebbe interessante leggerli tutti ma volevamo poi lasciarvi anche un po' di spazio per le domande ed ecco che alla fine cosa facciamo? Pubblichiamo i nostri testi possiamo fare pubblicazioni formali se ce n'è occasione quindi gli elaborati migliori li possiamo pubblicare nei blog della scuola chi ce l'ha oppure possono possiamo partecipare anche in qualche concorso se vogliamo ma la cosa migliore che possiamo fare sono le comunque le pubblicazioni informali eh quindi noi pubblichiamo sempre i miei alunni sono hanno imparato anche a scrivere la data di pubblicazione sono testi che probabilmente non saranno ancora perfetti eh ma eh sono testi mh guardate che noi lavoriamo anche sul eh su quello che chiamiamo il process paper cioè sul loro processo di scrittura alla fine di un testo ci devono raccontare com'è stato il loro processo come l'hanno vissuto cosa è stato eh facile per loro cos'è stato difficile come hanno applicato le strategie e devo dire che in questo lavoro la maggior parte di miei alunni ha detto che era molto soddisfatto del lavoro che aveva fatto perché aveva lavorato con impegno e aveva cercato di eh di applicare appunto tutte le strategie e e quindi poi questi libri faranno parte della nostra biblioteca della loro biblioteca di casa e si regalano ai genitori ed ecco scusate ecco qui un po' di copertine vedete gli argomenti che scelgono lo skateboard gli uccelli notturni le parti molli del corpo disegnare questi sono gli argomenti fra gli argomenti che loro si sono scelti per eh per parlare delle loro passioni ecco qui vi lasciamo anche un po' di bibliografia e io vi ringrazio e lascio la parola a Loretta interrompo la condivisione grazie Loredana scusate della velocità ma ok allora intero paura di sforare con il tempo allora condivido io e scusate un attimo che c'è sempre la barra di zoom che si posiziona sopra il ecco ecco tu non hai la macchia rossa era nello schermo di Loredana credo che solo Loredana possa cancellare la sua hai ragione eh allora eh anche il mio titolo è molto evocativo credo il bello incontra il vero un po' manzoniano come titolo eh il testo espositivo eh in particolare ehm vi presenterò il testo espositivo di divulgazione eh che eh i miei ragazzi imparano un po' diverso dal testo espositivo eh più noto perché è quello che ha lo scopo di eh coinvolgere non soltanto di informare ehm ecco scusate un attimo eh stiamo vivendo una nuova era per l'alfabetizzazione un'era in cui la partecipazione è la chiave partecipazione alla cultura digitale alla democrazia alla conversazione globale ciò che questa partecipazione principalmente comporta è la scrittura Randy Bomer che è una docente ehm che lavora col writing reading workshop negli Stati Uniti. ehm il lavoro sul testo espositivo divulgativo per me prima di tutto è questione di curriculum prima ancora eh di etica prima ancora che di curriculum scusate eh perché ehm perché lavorare sul testo espositivo come Loredana vi ha mostrato è lavorare sulla comprensione sulla motivazione ma anche tanto sulla conoscenza di sé e la conoscenza del mondo e sono dei mandati fondamentali nel primo ciclo di istruzione che ha lo scopo eh a scopo orientativo e anche ovviamente di formare cittadini attivi nelle nostra democrazia. Cosa significa comprendere un testo espositivo? Significa tantissime cose eh prima di tutto riconoscere eh riconoscere e interpretare la struttura e eh compresi gli apparati paratestuali, porsi domande, determinare fondamentale l'importanza delle informazioni e i nostri alunni lo sappiamo quanta fatica fanno, lo sappiamo quando? Quando poi magari durante un'interrogazione di storia non sanno scegliere cosa dirci e tendono a riproporre tutto quello che hanno imparato, no? Visualizzare, fare inferenze, visualizzare è importantissimo perché eh noi sappiamo di aver compreso se riusciamo a vedere con la mente quello che leggiamo, fare inferenze, creare connessioni tra ciò che è noto e ciò che è nuovo, anche questo è fondamentale, le famose preconoscenze e lavorare in laboratorio vuol dire condividere preconoscenze e questo permette di rendere davvero eh la comprensione eh 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 qualcosa di condiviso e perché davvero sappiamo che eh la la comprensione è un fattore sociale prima di tutto e quindi noi comprendiamo meglio tra di noi eh in gruppo. Poi sintetizzare, trasformare le nuove conoscenze e anche esercitare il pensiero critico. Troverete nel link un esempio e non credo facciamo il tempo a leggerlo, è un esempio eh di eh di testo eh divulgativo alla fine della prima. Una mia luna dentro troverete anche le bozze. con poche correzioni perché in realtà eh lei è un testo vi ho presentato anche un testo dopo aver presentato Wisdom, un testo alto diciamo di una ragazza veramente molto brava e poi troverete anche il process paper di cui vi parlava Loredana, la ehm metacognizione, l'aspetto metacognitivo. Vedete il flusso del nostro lavoro è questo. Prima ci immergiamo nei testi modello di qualità, poi estrapoliamo le caratteristiche del genere. Prima a livello individuale. Io dico di solito a casa per la prossima volta rileggete i testi modello e annotate tutto quello che vi viene in mente legato alle caratteristiche del genere. Poi vi farò vedere. E eh poi in classe prima in piccolo gruppo poi a classe intera stiliamo un elenco delle caratteristiche del genere che diventerà la nostra bussola mentre scriviamo ma anche per loro fondamentale strumento di autovalutazione e poi di valutazione perché io a partire da questi cartelloni che eh appendo in classe preparo poi le rubriche di valutazione. Eh poi scriviamo seguendo il processo di cui vi ha parlato Loredana e come vedete valutazione e autovalutazione cominciano da subito nel momento in cui iniziamo a immergerci nei testi. L'immersione eh vi faccio vedere una strategia al volo che ritengo molto utile proprio per quello che vi dicevo prima. la dimensione diciamo etica del fare comprensione del testo espositivo in classe. Quando noi parliamo di preconoscenze in classe con tantissimi ragazzi non etalofoni vuol dire aiutarli a creare dei ganci prima di tutto. E quindi lavorare in questo modo. Questo è il titolo del primo capitolo del libro di storia di seconda. l'Europa scopre e conquista il mondo. Apriamo il titolo in due e quindi isoliamo le parole piene e poi per ogni parola piena mi chiedo cosa significa cosa mi fa pensare. L'hanno fatto questa è una gemboard che abbiamo utilizzato in classe no? E quindi loro hanno scritto direttamente eh da tablet e io vedevo apparire le le loro scritte. e poi eh uniamo i puntini. Cosa significa quindi tutto insieme questo titolo? A cosa mi fa pensare questo titolo? Di che cosa potrebbe trattare il testo? hm? E loro hanno risposto. Il mondo esisteva anche prima di essere scoperto dall'Europa. Un solo punto di vista. Eurocentrismo. Arroganza. Eh direi che insomma ci siamo. Abbiamo aperto alle preconoscenze e poi abbiamo lavorato sul libro di storia. Un'altra strategia anzi tante strategie sono cinque eh che proponiamo è quella di spacchettare il testo espositivo e quindi conoscere i tipi di paragrafi con il tipo di schema che posso fare per ogni paragrafo e che poi può anche diventare un capitolo eh eh per esempio di storia o di geografia e quali sono le parole spia i connettivi che mi dicono questo è un problema è un paragrafo che lavora per comparazione o per causa effetto o per problema soluzione. e quindi loro imparano a prendere appunti così e poi imparano anche lo vedremo strutturare il loro testo. Questa ve la dico al volo ma troverete che è un testo su due slide. È tratto da un libro bellissimo di una eh biologa che si chiama Simon Gomery. È scritto l'anima di un polpo. È edito da Rick Editore nel duemiladiciotto. Eh e eh ogni capitolo è un polpo diverso. È un'immersione eh nella vita dei dei polpi e nella loro intelligenza. il primo capitolo si intitola Atena incontra con incontro con la mente di un mollusco. L'abbiamo letto in classe. Abbiamo lavorato sulle parole che loro potevano non conoscere essendo una classe come dicevamo molto multietnica. e poi però io ho detto bene a casa vi segnate tutto quello che volete segnarvi sul testo che notate. Dello stile, della scrittura, eh del contenuto. E poi in classe a piccolo gruppo ci ragionate insieme. Quando poi siamo tornati in gruppo grande io col mio taccuino prendevo appunti mentre loro mi dicevano. Anzi in realtà eh molto sulle lavagne d'ardesia. Poi io mi fotografo e riporto tutto sul taccuino. E queste di fianco a destra sono le riflessioni che hanno fatto loro. ehm per esempio la prima cosa che hanno notato Atena è la dea dell'intelligenza e il sottotitolo incontro con la mente di un mollusco e quindi poi sotto no? Si richiama l'argomento i polpi sono intelligenti vedete le sottolineature in rosso e poi più avanti animali non propriamente celebri per il loro intelletto perché i polpi fanno parte della famiglia dei molluschi come le lumacche, le chiocciole, le vongole. I polpi rappresentano il grande mistero dell'altro e loro mi avevano scritto riflessione profonda. no? Eh in coda vi faccio vedere è solo la finale tra l'altro vabbè l'incipito è stupendo è narrativo autobiografico quindi in una rara giornata tiepida di metà marzo di quelle in cui in New Hampshire la neve inizia a tramutarsi in fango viaggiai fino a Boston eccetera eccetera e poi entra dentro ma lasciai presto la beatitudine dei raggi del sole per addentrarmi nel santuario umido e ombroso del New England Aquarium. Quindi è veramente una scrittura di grande qualità. e sul finale sentite un attimo il ritmo volevo questo incontro con un polpo volevo toccare con mano la realtà alternativa volevo esplorare un diverso tipo di coscienza e loro mi hanno detto potere del tre. eh loro ancora non sapevano che si chiama tricolon però eh poi l'abbiamo visto anche in poesia si fa anche con ovviamente Petrarca il ritmo ternario ci piace tanto. eh altre queste sono solo accenni di strategie di comprensione altre possono riguardare gli indizi negli apparati paratestuali per generare significato. Dizionario sì dizionario no perché è vero che è importante eh saper utilizzare il dizionario ma è altrettanto vero che è importante e fondamentale per un bravo lettore comprendere le parole nuove dal contesto. e poi qual è l'informazione indispensabile? Cos'è invece accessorio in questo testo? Cos'è il bello? Dicevamo no? E qual è invece il vero? L'indispensabile? e tiriamo un attimo le somme sull'immersione poi corro sulla scrittura che molto ha detto Loredana. Prima di tutto dicevo la comprensione del testo per noi deve essere oggetto di insegnamento non solo di verifica. Arriverà l'invalsi e io sono favorevole personalmente a lavorare sull'invalsi con i ragazzi nel senso come se fosse un genere a parte no? In realtà genere di test standardizzato. quindi smontiamo insieme le domande ma prima di tutto la comprensione deve essere oggetto di insegnamento attraverso strategie quindi più strategie di comprensione e meno domande di comprensione e poi ovviamente ricadute anche sulla scrittura a lavorare sulla comprensione avete visto Loredana le meraviglie che fa la primaria e poi non dimentichiamoci che non siamo soli in consiglio di classe e sognare e cercare di lavorare per realizzare un lavoro davvero interdisciplinare sulla comprensione perché interessa a tutti. non soltanto a noi di lettere vado avanti sull'estrapolare le caratteristiche del genere sulla scrittura questo appunto il processo vi cito soltanto eh De Mauro mi viene da ridere a citare qui De Mauro in questa sede e non ci sarebbe bisogno ma eh lo voglio ricordare anch'io il tema favorisce la verbosità cioè l'adozione da parte degli allievi e dei docenti di formule stereotipiche cristallizzate. quindi i nostri ragazzi non fanno non scrivono più temi io il tema lo utilizzo eventualmente come controllo ti faccio ti do una traccia inizio anno te la do a fine anno e vedo come hai interiorizzato il processo di scrittura e le strategie che ti ho proposto. eh per generare idee non mi soffermo troppo avete visto Loredana parla di attivatori grafici disegni ma tanto anche di liste perché come dice Umberto Eco la vertigine delle liste ci apre a mondi no ci fa generare idee dentro di noi. poi l'importanza della focalizzazione quindi non cocomeri non fette ma semi di testo espositivo prima imparo a lavorare sul piccolo e poi ampio ampio è così che anche noi abbiamo imparato a scrivere e poi come si fa a ricercare informazioni è fondamentale per questo mi richiamo di nuovo all'etica no? insegnare a comprendere le informazioni online a fare ricerca online e poi è fondamentale l'organizzazione delle idee in questo caso per esempio io propongo una strategia che chiamo facciamo le architetti in cui riproponiamo le diverse tipologie di testo espositivo e quindi loro sceglieranno a partire dai loro bisogni se voglio evidenziare una serie di fatti o cambiamenti avvenuti in ordine allora posso utilizzare lo schema cronologico in sequenza. se voglio evidenziare la causa di un evento o l'effetto di un evento allora potrò utilizzare vedete è un cambio di prospettiva perché io non parto dal dallo schema e ti spiego lo schema io parto dal tuo bisogno e poi andiamo a lavorare sulla schematizzazione. per quanto riguarda la scrittura mi soffermo tra le tante possibili riflessioni da fare vedete di fianco troverete poi nelle slide varie possibili strategie mi soffermo su questa perché ha a che fare con la comprensione. noi sottovalutiamo il potere della metafora della similitudine come strumenti di comprensione e di solito li facciamo in poesia no mentre loro imparano da subito che le similitudini aiutano a comprendere perché quassù simon gomeri diceva si parla di un animale provvisto di veleno come un serpente di un becco come un pappagallo e di inchiostro come una penna ad altri tempi che può pesare quanto un uomo diventare lungo quanto una macchina e quindi io paragono il noto e il nuovo. questo è la metafora e la similitudine in un testo espositivo e quindi insegno a scrivere una similitudine l'elemento 1 è come simile all'elemento 2 oppure più difficile la metafora l'elemento 1 è elemento 2 noi avevamo lavorato su un testo modello che raccontava la storia di Maradona e la sua dichiarazione è un grido d'aiuto. no quindi una dichiarazione è una metafora come grido d'aiuto e poi ovviamente lavoriamo sull'editing fornendo strategie eh anche qui perché loro diventino autonomi nella correzione degli aspetti formali non siamo noi a intervenire io una volta eh quando ho imparato a correggere temi facevo come i miei insegnanti no era una correzione massiccia dell'errore una correzione che arrivava comunque sempre troppo tardi perché loro cosa facevano guardavano il voto forse leggevano la pappardella no il mio giudizio finale ma di sicuro non serviva la correzione di accenti apostrofi e congiuntivi eccetera e quindi proponiamo strategie di riflessione linguistica in contesto davvero pratiche e mirate e qua c'è la pubblicazione venne già parlato Loredana e altre possibili strategie per la stesura bozze la revisione potremmo per esempio insegnare loro ad aggiungere titoli ai paragrafi perché aiutano di nuovo la comprensione del lettore cioè loro si mettono dal punto di vista dello scrittore e dicono ma cosa serve al mio lettore per comprendere meglio quello che voglio dire quindi verbi specifici e forti aneddoti che illuminano il testo l'utilizzo di essi lessico specifico come inserire le ehm definizioni nel testo senza che diventino pesanti senza che senza che sembrino appiccicate ehm e quindi curiamo molto molto l'immersione e la prescrittura sempre ma soprattutto nel testo espositivo nel testo argomentativo che sono testi alti difficilissimi e poi scriviamone prima di tutti noi perché così ci rendiamo conto di quanta di che difficoltà hanno i nostri ragazzi noi chiediamo loro cose difficilissime in terza media scrivere un testo argomentativo è complesso ci sono persone di quarant'anni di quarantacinque anni che non sono in grado di scrivere un testo argomentativo e noi pensiamo che dei tredici anni siano in grado di farlo con tanto di antitesi e confutazione dell'antitesi insomma ogni tanto no eh fare un po' di metacognizione noi come docenti credo che sia importantissimo e poi insegniamo a scrivere testi espositivi che siano coinvolgenti per loro prima di tutto e poi per il lettore perché altrimenti cosa fanno loro? ecco tanti colleghi mi dicono quando vado in giro a fare informazione ah ho formazione ho smesso di insegnare il testo espositivo di chiedere di far ricerca perché tanto fanno copia e incolla da Wikipedia è certo dobbiamo provare prima di noi prima di tutto noi passione nell'insegnare loro la curiosità della ricerca perché noi stessi se siamo qua siamo persone in ricerca no? sempre torno sulla dimensione etica perché di nuovo insegnare a leggere e scrivere è dare tutti gli usi della parola a tutti diceva Gianni Rodari no? grazie e eh adesso smetto di condividervi lo schermo se ce la faccio vediamo interrompi condivisione allora grazie grazie mille ad entrambe avete presentato moltissime cose tanto materiale ed è molto bello vedere anche quello che che fate in classe e come vedete io lo conoscevo già un po' però se lo vogliamo chiamare approccio piuttosto che metodo ma è molto molto strutturato con molti materiali anche che offrite agli insegnanti e direi che ha senz'altro in comune con la diciamo non c'è un approccio del Gissel ma insomma questo quest'idea di lavorare sul processo che abbiamo visto per esempio anche quando abbiamo fatto l'incontro sulla scrittura col gruppo di Gabriele Pallotti e quindi lavorare sul processo e in particolare poi secondo me voi curate tantissimo la la motivazione e ed è molto interessante che abbiate mostrato anche un po' cosa sono le classi di oggi con delle percentuali così alte di ragazzi non nativi che comunque sembrano essere molto molto inclusi in tutto questo e allora eh non c'è rimasto tantissimo tempo per la discussione di solito stiamo qui due ore però non c'è difficoltà credo ad allargare un po' il nostro spazio per chi vuole e quindi eh io ho visto che la prima che si è prenotata per intervenire è Maria Rizzato se c'è ancora Maria ci sei? ecco la prima ecco ci sono prego sì sì eh interessantissimo tutto anch'io conoscevo abbastanza perché seguo in internet dentro gli spazi che eh mettete a disposizione ehm ci sono alcune curiosità che mi restano allora la prima ehm voi partite da testi vero? eh sono eh pezzi di testi di testi interi questa è la mia prima domanda perché io ritengo che sia opportuno ho visto appunto eh eh Loretta De Martín che ha presentato un testo intero per lavorare sulla eh l'esposizione ehm io ehm parto subito comunque da una leggera critica primo il discorso tema per piacere non utilizziamolo più sono anni ormai che è sparito anche dai eh a livello ministeriale no? Anche se nella scuola si continua a dire do il tema do il tema il tema non esiste esiste il testo narrativo espositivo argomentativo eccetera no? Ecco ehm seconda cosa eh il testo argomentativo non è difficile e parlo perché ho insegnato sia nella scuola media sia nella scuola superiore e nella scuola e credo che si possa fare anche in eh in quinta elementare a livelli diversi chiaro però si può fare cioè eh stimolare i ragazzi ad avere una eh pulizia di pensiero che si traduce anche in una pulizia espressiva quindi argomentativa però volevo chiedere un'altra cosa allora voi partite da testi poi ehm lasciate che siano gli studenti a tirar fuori tutta una serie di mi pare di aver capito di caratteristiche e eh dopo ritornate in classe ehm io in genere partivo dal testo e assieme a loro individuavamo tutta una serie di elementi eh parlo soprattutto per il testo argomentativo perché è quello su cui ci si sofferma sempre un po' pochetto eh perché si tira in ballo il discorso che è difficile eccetera eccetera allora mi pare di aver capito che ogni testo è funzionale a uno scopo anche quindi ha in mente dei lettori e voi avete fatto vedere che appunto c'è ci sono dei lettori eh a cui ci si rivolge quindi in base a quello eh c'è una scelta eh di eh chiamiamolo stile direi anche proprio di struttura testuale no? ecco eh su questo discorso della struttura quanto effettivamente vi soffermate perché vedevo che prima si faceva riferimento al discorso dei connettivi ehm eccetera ecco ma è quello che fate nei dieci quindici minuti della mini lezione? in una mini lezione affrontiamo magari un tipo di connettivo no? Quindi si smonta io vi ho fatto vedere hai ragione io vi ho fatto vedere il poster tutto insieme che io appendo all'inizio eh del lavoro tra l'altro quel poster lì viene utilizzato in storia in geografia cioè l'utilizzo sempre no? eh rispondo un attimo sui testi sì sempre testi conchiusi perché altrimenti non possiamo lavorare in modo autentico sulla strategia e per quel che riguarda l'argomentativo sono d'accordissimo addirittura abbiamo colleghe che partono dalla prima primaria a lavorare sull'argomentativo cioè porta il tuo gioco preferito e convinci gli altri ed è perché il tuo gioco migliore degli altri per esempio no? Quindi sono d'accordissimo tra l'altro sfonda una porta aperta perché per me ehm argomentativo e argomentativo e espositivo sono i due testi davvero mi appassionano tantissimo e anche i ragazzi si appassionano in terza infatti lavoriamo a fondo sull'argomentativo io in realtà inizio già in seconda perché lavoriamo su ehm l'articolo di approfondimento quindi insegniamo loro a raccogliere l'idea di fondo e è già un inizio per poi arrivare in terza con l'espositivo per quel che riguarda le caratteristiche del genere di nuovo nella fretta ahimè eh non è buona consiglia abbiamo spiegato magari benissimo noi lavoriamo eh come modello per prima noi quindi proponiamo diversi testi i primi due li facciamo noi facciamo quello che chiamiamo pensare leggendo cioè ti mostro come ragiona un lettore e cosa nota un lettore esperto poi man mano lo facciamo insieme a loro come diceva lei e poi alla fine raccolgono loro tutto no? raccolgono loro a casa bene adesso abbiamo parlato di questo scrivete questo elenco di quello che notate ma lo notiamo sì assieme sì poi in terza posso anche permettermi quando per esempio lavoro alla poesia contemporanea non dei grandi classici di eh chiedere loro bene leggete questa poesia e provate voi da soli a tirare fuori ma sul testo argomentativo no eh non è è complesso se voglio che ci arriviamo dobbiamo arrivarci insieme non so se sono stata con due parole anch'io sul testi beh sicuramente come ha detto Loretta noi lavoriamo su testi interi cioè noi lavoriamo su tutto su tutto il su tutto il testo e più volte anche perché lo stesso testo mi può servire per più strategie io non adotto libro i libri di testo i miei bambini non hanno il il sussidiario dei linguaggi io con i soldi che i bambini spenderebbero per il sussidiario cioè con i soldi che il ministero passa per il sussidiario dei linguaggi quindi compro eh testi per la biblioteca di classe e in base al tipo di lavoro che poi affronterò durante l'anno prendo testi informativi poesia eh narrativa ehm l'anno scorso ho fatto una scorta di fiabe perché faremo un lavoro lavoreremo in particolar modo sulla fiaba quindi questo per quanto riguarda il testo per quanto riguarda appunto il discorso del dell'approccio i bambini perché studino loro il testo da soli è chiaro come diceva Loretta prima partiamo noi da eh da dare l'esempio dal modello la presentiamo una strategia e poi andiamo a chiedere ai bambini che vadano a ricercarla nel testo oppure partiamo da quello che loro trovano e discutiamo su cosa hanno trovato quindi non è un lasciarli soli a capire come funziona il testo è tutto molto guidato si parte a volte dalla strategia a volte si fa eh si fa il contrario però tutto controllando appunto un aspetto alla volta molto graduale e molto focalizzato sì sì appunto perché la primaria non se ne parla i miei bambini sono lettori e scrittori sono scrittori di libri tanto che loro hanno si sono creati il loro logo la loro casa editrice sono molto attenti quando devono fare la copertina tutto l'apparato testuale lo curano eh anche il discorso di tema mi viene da dire eh sì eh concordo con la collega però a volte vale perché siamo magari tra di noi che siamo convinte no che il tema non venga più proposto ma assicuro che vado in giro in tutta Italia in scuola di tutta Italia e ahimè e ahimè non aggiungo altro cioè è soltanto appunto d'accordo no no volevo soltanto eh ritornare sul discorso del testo argomentativo perché di solito è il testo su cui si lavora di più nel biennio della eh secondario superiore e poi nel triennio e eh volevo ehm precisare qualcosetta cioè eh non è che tu possa dire ti do lo schema di base e dopo facciamo riduciamo solo attesi antitesi ma ogni schema ha un suo scopo un suo scopo quindi di questo devo tenere conto no e devo farlo vedere su testi prima cioè io almeno facevo così lavoravamo su testi ricavavamo tutta una serie di organizzazioni e poi eh si discuteva anche su un argomento che era piaciuto alla maggioranza e su quello poi si scriveva decidendo che struttura scegliere ecco cioè ehm ehm sono lavori lunghi piacevolissimi per quanto riguarda l'insegnante ma anche per gli studenti e l'ultimo appunto era mi pare che la hm il momento in cui fate la consulenza individuale sarebbe anche opportuno che ci fosse un momento collettivo eh cioè tirar fuori alcune osservazioni interessanti che emergono dagli scritti dei vari studenti renderle comuni per poter dire cosa ne pensate si potrebbe migliorare cioè creare una dibattito che poi confluisce in una maggiore presa di consapevolezza. Esattamente quello che facciamo nella condivisione finale no e partiamo perché noi facendo la la consulenza notiamo degli aspetti che loro stanno trattando allora posso dire eh Mario leggi ai compagni questa parte no cosa dite come impariamo dagli altri no verissimo verissimo vedete cioè è bellissima questa cosa che sono esaltata perché non siamo venute qua a dire cose nuove no? e sono cose che tutti noi abbiamo. Certo sì sì no no. È bellissimo trovare risonanza in questo e dire ma cavoli diciamocene più spesso queste cose e troviamo magari eh appunto in questo caso ho trovato una cornice dove metterle no? È bellissima questa cosa che ci sta dicendo. Sì sì e dopo chiaramente concludo perché come Gissel non possiamo non stare attenti a tutto il discorso struttura del testo e lingua e quindi tassi, lessico eccetera eccetera va bene? Ok grazie comunque grazie. Grazie a lei grazie. Facciamo eh abbiamo anche il laboratorio di riflessione linguistica. Cioè eh eh questo era solo riferito alla lettura alla scrittura però la la insomma io non potrei non farlo. Componente del Gissel che troviamo. E del GGG in particolare. Da cacciare immediatamente da gruppo. Eh allora ci sarebbe una domanda molto veloce di Francesca Bomben che chiede se c'è un'antologia e mi pare che ci sia in pubblicazione. Allora eh sì diciamo eh l'anno prossimo stiamo lavorando a un'antologia eh proprio ehm per la secondaria di primo grado a noi non piace chiamarla antologia ma in realtà è una raccolta di testi quindi forse sì. La particolarità è che sono testi tutti conchiusi no? Come diceva eh eh e quindi sono racconti conchiusi e testi conchiusi con proposta di strategie. diciamo che è un po' uno spoiler questo nel senso che non non sì è un po' presto però chi ci sta comunque gira la voce Loretta. Anche c'è qualcosa che bolle in pentola. Esatto. Esatto. Benissimo. Anche se noi promuoviamo comunque l'adozione alternativa. Sì io per esempio non adotto non adotto proprio per il motivo che dicevamo sono tutti stralci no? Di racconti e io non riesco a lavorare sulla struttura e i ragazzi non provano piacere perché ehm se io come fai a lavorare su non so su un personaggio o a dire cosa cosa provi tu di fronte a un testo così e quindi ecco. ehm. Viola ha fatto una domanda ma solo a me. Elena posso fare una domanda anche io? Sì sì sì. Se c'è un bricciolo di tempo. Parla falla. Credo che lei eh l'abbia fatta prima che parlassero bene del testo argomentativo e poi hanno risposto. Fai Federica. Sì allora no premetto che io apprezzo tantissimo il lavoro di Loretta, lavoro di eh di Loredana insomma siccome Loretta lavora alle alle medie e io lavoro alle medie per me lei è diventata quasi una una musa no? Ispiratrice. Ah va va Federica. No però volevo fare una piccola domanda che però è critica. vi avviso prima insomma non proprio perché è una cosa che eh io mi domando molto avendo poi sperimentato diciamo io non sono mai molto ortodossa però dal VRV ho tratto tantissime cose che hanno modificato tantissimo il mio modo di fare scuola. Quello però che a me un po' lascia sempre per no perplessa ma un po' così in dubbio è che quando vi ascolto quando leggo anche quello che le vostre le altre formatrici scrivono eccetera eccetera trovo sempre dei percorsi e delle proposte che sono meravigliose e io le definisco scintillanti perché sono bellissime e poi eh quando io però la mia esperienza di scuola premetto che io lavoro eh ho sempre lavorato in contesti eh di disagio con tanto disagio eh io eh che ho comunque abbastanza esperienza e credo di essere un insegnante che si dedica a compassione, attenzione e studio eh trovo che per realizzare cose eh analoghe a quelle che ho fatto e voi anche per strutturare i laboratori eh ho bisogno di tempi che sono lunghissimi cioè ehm con i ragazzi che tra l'altro non sono abituati più piccoli li prendi e più piccoli li abitui meglio è però quando arrivano in prima media c'è il multilinguismo il disagio sociale tante problematiche insomma lavorare in maniera laboratoriale a me richiede tempi eh molto molto lunghi e quando sento che si fanno non so sei sette pezzi di scrittura all'anno e a me per lavorare in questo modo servono tre mesi a volte per fare un percorso di senso e le strategie che posso insegnare ad alto ogni volta sono insegnare proporre sono molto poche alla lunga dico ma io sbaglio o è effettivamente difficile cioè quando si fanno questi incontri voi proponete sempre delle cose molto molto belle però io invece leggo nella mia esperienza tanta tanta fatica tanta preparazione e poi non dei sì sicuramente è un modo di lavorare che permette è incredibilmente inclusivo però bisogna che questa inclusione non porta sempre a queste cose così così belle ecco cioè ci sono ecco percorsi anche molto tortuosi e difficili anche tenere il ritmo eh voi dite sì non sono ricette però qualche volta leggendo alcune 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 cose che scrivete sembra proprio una struttura proprio una struttura un po' a ricetta no dieci minuti venti minuti eh no nella nella mia realtà questo salta un sacco di volte perché ragazzi in realtà poi eh sono sempre unici e diversi e e e la tempistica della della ricetta eh non funziona sono microcosmo e devi entrare e risolvere il problema perché c'è quella che piange perché è stata presa in giro perché è una classe autentica e e quindi come a qualsiasi processo di scrittura autentico ai suoi inciampi ai suoi quindi eh Federica come ti come ti capisco io quest'anno ho lavorato rispetto alla seconda alla prima che avevo l'anno scorso ho lavorato pochissimo sono riuscita a fare pochissimo quel poco me lo porto a casa con soddisfazione però per la prima volta io non so se è stato covid non so se è la stanchezza non so questi anni per la prima volta ho una prima eh che mi dico che ho inciso poco sui fragili di solito eh anche la seconda dell'anno scorso che comunque sono simili alle tue no perché poi io cioè abbiamo no un background simile realtà sì è la prima volta che dico la fatica c'è stata tutta e i fragili non sono riusciti a incidere quindi non è detto che sia ogni anno uguale non è detto che sia sempre eh sempre la stessa cosa e soprattutto hai ragione a volte no poi quando facciamo i webinar o le presentazioni degli articoli sembra un percorso molto lineare ma perché? deve essere riproducibile nel momento in cui io documento deve essere riproducibile e vi dico come ho programmato vi dico come ho ho teso a lavorare in classe e poi quando devo consolare una che piange per un'ora perché ha litigato con la sua amica che l'ha insultata eccetera salta tutto no? E credo che però eh questo sia anche nella cioè mi succedeva anche prima a differenza di prima eh come diceva eh Elena Duso trovo più motivazione in loro in me e poi appunto la struttura no? Eh cioè il riconoscere una struttura e per me è già tantissimo per i ragazzi fragili ecco. Sì sì no ma veramente anche i fragili crescono eh perché io vedo che crescono tutti in questo modo però i percorsi sono molto tortuosi. questo anno devo fare molto autocritica molto molto autocritica perché ho inciso poco secondo me non so. Io vorrei dire questo la scuola ha ha percorsi tortuosi perché è così eh cioè io penso che l'imprevedibilità sia eh la scuola eh per l'antonomasia. la vita. No che ogni giorno quando entriamo in classe noi abbiamo pensato una cosa ma non 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 succederà mai tutto quello che noi avevamo previsto quindi io lo do per scontato questo e e continuo a insistere eh che ehm appunto è vero che c'è una cornice che sembra morta origina ma invece è una cornice che per me io lo sto vivendo così eh dopo ognuno ovviamente lo vive a modo suo e quindi posso anche capire eh le tue osservazioni Federica. però io invece lo vivo come una cornice che mi aiuta a tenere la barra dritta dove anche in quei momenti in cui le cose non possono funzionare è una cornice che ehm che mi aiuta a capire sempre dove voglio arrivare cosa voglio fare con i bambini e e quindi anche nei momenti in cui io non non applicherò la 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 l'organizzazione in modo così rigido perché non sono obbligato a farlo come vi dicevo vi ho fatto un esempio no io un giorno invece di di fare un laboratorio di scrittura autonoma ho utilizzato ho ampliato il coinvolgimento attivo e ho fatto fare il coinvolgimento attivo per tutto il laboratorio però l'ho fatto con consapevolezza sapevo cosa volevo fare in quel momento e sapevo che non sta e che li stavo preparando ad un certo tipo di lavoro e e e quindi è chiaro che ci possono essere imprevisti è chiaro che non tutto funzionerà come vogliamo però io ho visto invece che eh anche io ho ho delle situazioni in cui devo correre dietro ai bambini ho dei ho ho una ho delle situazioni in classe che sono a volte inenarrabili ma ho la fortuna che avendo insegnato i bambini a lavorare al processo di scrittura io mi posso permettere a rincorrere il ragazzino che non riesce a stare in classe mentre tutti gli altri vanno avanti con il loro lavoro ad esempio che sembra cosa banale ma prima non era possibile perché se tutti pendono dalle mie labbra se tutti aspettano che io faccia loro la lezione frontale cosa fanno diamo la quattro invece i nostri ragazzi eh noi arriviamo possiamo stare dieci minuti con la collega Michela eh lavoriamo nello stesso plesso noi facciamo consulenza tutte le mattine quando ci incontriamo perché tanti bambini in quel momento stanno leggendo autonomamente stanno lavorando al laboratorio di lettura se prendono i libri non aspettano che siamo noi a dirglielo cioè si entra in un meccanismo di laboratorio che veramente aiuta aiuta i ragazzi in tutti i modi prima non lo potevo fare con tutte le criticità del caso però la cornice a me aiuta a risolvere i problemi quindi io la sto vivendo così ok un'ultima un'ultima questione perché è tardi però per dare un po' di soddisfazione anche gli insegnanti eh chi insegna a ragazzi un po' più grandi ehm vedo che Maria Luisa che insegna la secondaria di secondo grado e non ha mai provato questo metodo esprime qualche perplessità sul convincere i ragazzi più grandi ad adottare un metodo laboratoriale e le ha risposto Elena Martinelli eh a cui eh magari dare un attimo la parola che mi ha chiesto Elena brevemente può aver senso diciamo approfittare di di questa proposta di questo approccio proprio per farsi una domanda un po' più generale è molto triste che i ragazzi delle superiori arrivino a questo ci si può chiedere quanto questo dipenda dall'età ma quanto dipenda dalla scuola ehm e se andiamo all'università è ancora peggio io riportavo piccole esperienze all'estero dove il lavoro laboratoriale è la normalità non è l'eccezione o di qualche insegnante o di qualche piccolo momento che poi quando comunque serve fare le cose serie si fanno in un altro modo io parlo e tu ascolti eh allora la cosa interessante anche quando Loretta faceva riferimento al non esistiamo non esiste solo l'insegnante di italiano di lettere ma siamo alle medie in un consiglio di classe alle superiori pure e in un team alla primaria eh è importante che eh si pongano eh gli aspetti della del setting della strategia come centrali cioè noi impariamo dal come il cosa è quasi indifferente potremmo prendere qualsiasi cosa e metterlo al centro e diventa interessante se il come è bello ecco eh quindi io penso che ciascuno di noi che ha avuto esperienza nei gradi più a elevati ha visto perdere via via l'entusiasmo e eh e un po' di mea culpa eh e forse più di un po' dobbiamo farlo noi perché abbiamo non solo perso occasioni eh e tante delle cose che avete detto di quello che accade in classe durante il laboratorio è proprio eh affidato all'intelligenza del docente che si accorge che la l'intervento divergente è la ricchezza di quella giornata non è il l'inciampo nella mia programmazione quindi in qualche modo quello che diceva Federica eh un po' ci scoraggia ma un po' ci dice che è la vita cioè vuol dire che nella classe si sta vivendo grazie Elena è tanto che non insegno alle superiori ho fatto anni alle superiori poi con la riforma Germini mi ero precaria non lavoravo più e quindi sono passata alle medie e devo dire la verità sono passata con le lacrime piangevo tanto e non volevo e i bambini di prima io non li sopportavo e perché è la prof la gomma prof il diario eccetera e poi adesso non mi sposterei mai neanche se dovessi andare a insegnare qualsiasi perché è qui che mi mi sento efficace è qui che ho tempo per agire alle superiori con quattro ore si può fare molto c'è Stefano Verziaggi che è un bravissimo collega che lavora al in un liceo di Vicenza e di la provincia di Vicenza e lavora col VRV e sta sperimentando trovando bisogna trovare delle delle le proprie strade no? E già eh ridurre la lezione frontale e già porsi il problema Elena grazie di questo intervento perché veramente posso dirti una cosa Loretta? che forse si aggancia ancora di più l'ultimo argomento che voi avete trattato quindi siete passati dal narrativo eh diciamo al 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 testo espositivo informativo può essere il gancio e il gancio è di dire facciamo un testo che coinvolga il collega di scienze il collega di chimica se siamo le superiori il collega di tecnologia e che quindi attraverso il contenuto del quale veramente non me ne frega niente eh aggancio un'altra persona e lo cerco alleati insomma in questo sia modo di lavorare e poi anche sulla comprensione perché lo sappiamo che è un'emergenza questa ultima cosa che voi avete toccato del testo espositivo che forse quello che io mi sentivo più vicina insomma anche con le altre colleghe del Gissel perché abbiamo sempre lavorato eh piuttosto su questo che sul narrativo eh diventa un grimaldello insomma per forse eh perché siamo anche molto sulle difensive così semplici però posso dire per esempio io ho un compagno che insegna all'alberghiero e una volta mi ha visto lavorare con la strategia visualizza e adesso lo propone ai suoi ragazzi quando fa le proteine del latte e li fa lui legge e loro visualizzano e dopo confrontano com'è l'immagine cioè per dire insomma eh forse si fare alleanza con le con le altre discipline perché è davvero un'emergenza diciamo non siamo noi le uniche a dirlo grazie grazie davvero hai colto il cuore cosa dite ci fermiamo qui ma comunque siamo riusciti a tenere settanta partecipanti per due ore e mezzo mi sembra un grande successo grazie grazie se siamo andate un po' lunghe però secondo noi era era importante chiudere il percorso proprio perché no certo come si parlava di struttura del testo e e quindi poi se volete anche se avete domande potete anche scriverci ovviamente ecco loretta tanti chiedono come approfondire quel particolare aspetto c'era qualche domanda che io ho detto è troppo specifica e lì bisogna fare un corso eccetera se cercano dei corsi li trovano su facebook no c'è uscito che ha una mail formazione e in Veneto qui siamo sette formatori e di cui Stefano per la secondaria di secondo grado eh io Alice Cabrelle per la secondaria di primo grado e poi abbiamo eh le tre super colleghe della primaria Loredana Semperlotti Gloria Di Catti e Michela Grigio e sono tanti rispetto a ehm eh siamo in tanti in Veneto ecco alcuni ci contattano anche magari privatamente però abbiamo liste d'attesa abbastanza lunghe devo dire perché per esempio io non sono più libera fino al duemilaquattordici ma se vuoi scrivere ventiquattro sì duemilaventiquattro duemilaventiquattro scusate eh sì scusate noi fino almeno a maggio duemilaventitré eh e quindi e quindi sì perché non siamo ancora tanti però bisogna assoldare nuovi giovani infatti lo stiamo facendo ad esempio ci sono dei corsi Ericsson quindi anche il sito dell'Ericsson si può tenere esatto tenete d'occhio il sito della Ericsson perché un gruppo nutrito di noi collabora con la Ericsson e quindi fanno anche corsi a distanza e e poi c'è da dire che c'è da studiare anche tanto da soli e Federica può può dirlo perché si innamora di questo approccio eh però lei è una di quelle che si è studiata proprio i maestri americani e in inglese non è facile ho dovuto riprendere l'inglese anch'io ma davvero ripagata la fatica con entusiasmo e risultati devo dire che insomma ecco appunto inclusivi va bene allora grazie veramente a a voi eh per la presentazione a tutti gli altri per aver partecipato e arricchito l'incontro con le domande grazie 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 grazie